Scusi, posso rendermi in qualche modo? 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 Scusi... ... 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 presente mattioli massimo è presente zappaterra denis e presenti radinelli anne presente testoni michele presente tassinari cosma assente carlotti cinzia presente corvini luigi presente tozelli stefano assente galuppi giampaolo assente pareschi fausto presente magagna lorenzo presente mattarelli marco presente bene nominiamo gli scrutatori nelle persone dei consiglieri mattioli testoni zapaterra magagna scutatore se va bene bene l'inno grazie 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 entrambe io credo importanti la prima è sono due occasioni più che alto di invito per i signori consiglieri la prima è per dirvi che questa mattina ho partecipato a Ferrara come già da alcuni anni alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2015 di Internazionale ancora una volta quest'anno ci sarà un appuntamento centese di questa importante rassegna che il Comune di Ferrara e la rivista internazionale appunto realizzano con grandissimi risultati sia dal punto di vista dell'affluenza che della qualità dei dibattiti offerti il nostro appuntamento sarà sabato 3 ottobre in Pandurera quando avremo l'opportunità rivolta in primo luogo alle scuole di incontrare il giornalista bangladese Asif Muuddin che peraltro il giorno prima a Ferrara riceverà il premio giornalistico intitolato Anna Politkoskaya quindi un riconoscimento importante per un giornalista molto impegnato su fronte alla tutela della libertà di informazione dei diritti dell'uomo e civili in generale quindi credo sia un'opportunità mi fa molto piacere dirvi che già le nostre scuole stanno rispondendo con particolare calore come già è accaduto negli anni precedenti la seconda comunicazione a sua volta è un invito per dirvi che domani alle ore 18 inaugureremo ma in realtà è per dare comunicazione e un po' di visibilità al fatto che sarà aperta quindi più una inaugurazione di servizio la parte un'ulteriore parte pubblica del progetto di riqualificazione di Via Leolanda sarà l'occasione per aprire il nuovo tratto di strada che è già operativo da un po' ma soprattutto per chiudere quel tratto di strada che proseguiva il 25 aprile fino ad andare a incontrare al semaforo fiancheggiando il supermercato Cop via Bologna quel tratto da domani sarà a fondo cieco ovviamente sarà garantito l'accesso al quartiere di via 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 non mi viene vabbè diciamo il quartiere che impropriamente si chiama Ceres ma che è in via De Gasperi via De Gasperi sono un po' stanco con la stessa occasione verrà aperta una parte pubblica rilevante che è tutta l'area diciamo della nuova piazza che circonda quello che sta per diventare il nuovo centro giovanile della città di Cento colgo l'occasione per dire che la commissione toponomastica ha proposto due intitolazioni che sono state approvate dalla giunta nei giorni scorsi quindi il nuovo tratto di strada sarà intitolato via 27 gennaio giorno della memoria in questo modo anche questa amministrazione prosegue rispetta diciamo la tradizione la peculiarità tutta centese che vuole che la nostra circonvaluazione cosiddetta esterna abbia solo intitolazioni adatte rilevanti 25 aprile 20 settembre primo maggio 4 novembre ora anche 27 gennaio giornata appunto della memoria dedicato alle vittime dell'olocausto la piazza antistante la nuova strada su proposta della commissione toponomastica ripeto condivisa dalla giunta verrà intitolata benjamin di israeli figura importante nello scacchiere internazionale illustre figlio della nostra città perché sapete che la famiglia di israeli transitò per il nostro ghetto e quindi lo statista inglese risulta un nostro concittadino ancorché per un brevissimo periodo di tempo e questo è un aspetto meno noto diciamo della nostra storia che la commissione toponomastica ha proposto di valorizzare e che ci sentiamo corretto valorizzare anche perché lo do come annotazione curiosa ma curiosa in realtà non è la nuova piazza ha un'estensione anche se non sembra perché in campo aperto le misure tendono a ingannare paragonabile a quella di piazza Guercino quindi stiamo parlando di una piazza che nel rapporto diciamo alle piazze attualmente esistenti a quelle a cui siamo in particolare molto legati come la nostra piazza Guercino ha una sua dimensione e io sono certo diventerà anche un polo di attività e di aggregazione soprattutto quando aprirà il centro giovanile quella potrà essere una piazza a vocazione appunto giovani non mi sembra sbagliato questa intitolazione dà sapore sì della storia locale ma anche che guarda diciamo all'Europa e al mondo l'ultima non è una comunicazione questa è un'annotazione prima parlavo di internazionale oggi pomeriggio proprio in questa sala abbiamo presentato assieme noi abbiamo presenziato mentre Nedda Berghini presentava il premio internazionale Daniele Po credo che sia un'altra opportunità per la nostra città per incontrare persone che portano un vissuto davvero ricco di portato e credo che non sia una solo una coincidenza è anche una buona un regalo della buona sorte il fatto che internazionale e il premio internazionale Daniele Po avvengano nella stessa settimana qui slittato di qualche giorno parliamo del 9 e del 10 di ottobre quindi colgo l'occasione per segnalarlo a voi e per vostro tramite la città tutta grazie passiamo cominciamo con il punto dalla fine cioè il punto aggiunto perché non ci sono votazioni penso che siate tutti d'accordo in pratica la presentazione del piano generale del traffico urbano PUT relaziona signor sindaco prego sarà una relazione particolarmente veloce perché la motivazione che ha previsto l'inserimento di questo punto all'ordine del giorno credo sia chiara a tutti abbiamo voluto iniziare formalmente un percorso di concertazione di condivisione di uno strumento assolutamente strategico importante come il piano traffico urbano il piano traffico manca questo è un nuovo piano traffico che segue di oltre 20 anni l'ultimo piano il cosiddetto piano Margherita che tutti ricordiamo almeno nel nome Margherita che in questi 23 anni oramai ha perso praticamente tutti i petali e dell'impianto diciamo programmatorio di allora non è rimasto molto peraltro si sono modificate in maniera molto significativa sia le caratteristiche del nostro traffico che le caratteristiche del nostro centro abitato anche solo a cominciare dal numero degli abitanti che è cresciuto di oltre 5.000 persone in questo lasso di tempo questo ci ha portato già nel 2011 a considerare in priorità l'aggiornamento ma di fatto non stiamo parlando di un aggiornamento stiamo parlando di un vero e proprio nuovo piano traffico per il motivo che dicevo prima il lavoro è iniziato tra il 2011 e il 2012 ha avuto ovviamente un rallentamento a sua volta connesso alla vicenda terremoto raccoglie gli effetti del post terremoto che hanno modificato in qualche misura sia le nostre abitudini che in alcuni tratti la nostra viabilità ed ha però un orizzonte di riferimento lungo è un piano che guarda ai prossimi dieci anni e oltre perché l'ho già detto in commissione lo ridico qui non perché io sia particolarmente legato alle sigle poi cercherò di spiegarle tutte però questo è un piano urbano traffico in sigla PUT che dialoga con il PAES di cui parleremo tra poco e già recepisce gli obiettivi e le finalità del PAIR che dovremo rispettare dal primo di ottobre del 2016 che cosa ho detto decrittando questa sindrome da acronimi che colpisce un po' questo nostro paese ho detto che il piano traffico si dà come obiettivo il contenimento delle emissioni il miglioramento della circolazione la una cosiddetta viabilità sostenibile il che è l'ossatura il punto di riferimento cardine per il piano che come ente locale siamo tenuti a predisporre e che in larga parte è stato già predisposto e sarà tra non molto oggetto anche della vostra valutazione per rispettare gli obiettivi del PAIR cioè del piano aria integrato della regione parto da qui per farvi capire perché il piano traffico utile e direi indispensabile di per sé diventa anche cogente perché in assenza di un piano traffico è impossibile immaginare una politica di contenimento delle emissioni in atmosfera legate al traffico perché vorrebbe dire navigare a occhi bendati senza sapere qual è la rotta che ci stiamo dando allora il piano aria è frutto di un lavoro ampio che ha coinvolto la regione sia nella precedente che per questi mesi nell'attuale legislatura e ha una prima caratteristica che lo rende assolutamente diverso da tutti gli altri piani aria adottati approvati con legge regionale in Emilia-Romagna perché si rivolge non più come era una volta solo alle città con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti ma interessa tutti quei centri che hanno una popolazione superiore ai 30.000 abitanti quindi Cento rientra tra i comuni che hanno l'obbligo di rispettare il piano aria regionale questo è particolarmente importante perché in genere leggendo i giornali o guardando le televisioni la prima cosa che viene in mente quando si parla di piano aria è il tema delle domeniche ecologiche o i blocchi della circolazione questi scatteranno anche da noi con decorrenza dal primo ottobre 2016 e su questo tornerò ma soprattutto questa è la punta dell'iceberg quella che si vede di più ma la parte diciamo meno visibile ma in qualche misura più importante è che il piano obbliga ad una serie di accorgimenti penso ai parcheggi scambiatori penso a una politica della sosta di un certo tipo un'alternanza aree verdi aree dedicata alla viabilità la valorizzazione del trasporto pubblico la messa in rete dell'esistente del trasporto pubblico eccetera che tutte assieme costituiscono diciamo un mosaico piuttosto importante destinato a portare dei risultati risultati che sono a loro volta e ne parlavamo proprio in commissione centrali rispetto all'altro obiettivo che è quello del PAE se ne parleremo tra un po' c'è del piano cosiddetto patto dei sindaci quello che da l'obiettivo che il nostro comune si è dato volontariamente liberamente di puntare alla riduzione delle emissioni di CO2 e all'aumento della produzione di energia compatibile cosiddetta energia verde entro il 2020 noi ci siamo dati l'obiettivo di una riduzione del 23% delle emissioni di CO2 la parte significativa di queste emissioni sfuggono dall'area del controllo dell'ente pubblico ne parlavamo in commissione perché fanno riferimento al riscaldamento privato alla produzione di CO2 della nostra industria ma una parte significativa oltre a una parte un po' più marginale legata agli edifici pubblici e quant'altro sono da ricondurre proprio al parco circolante cioè al sistema del trasporto su gomma ecco perché in questo caso il nostro piano traffico si dà degli obiettivi graduali di riduzione dell'inquinamento che dovrebbero garantirci di accompagnare l'altra grande sfida che è quella della riduzione complessiva delle CO2 lo scorrerò rapidamente praticamente per titoli quello che voglio dirvi è che oggi vi è stato consegnato formalmente la relazione il cronoprogramma prevede salvo che in commissione conferenza capigruppo non si decida nulla di diverso l'adozione formale del piano nel mese di ottobre per arrivare all'approvazione del piano nella primavera questo è il ragionamento in modo da poter gestire poi dipende quanto siamo bravi nella gestione delle osservazioni e quanto è efficace il risultato che viene sottoposto alla vostra valutazione l'ultima premessa prima di scorrerlo è che il piano disegna complessivamente un accento diversa da quella che conosciamo oggi ma il cronoprogramma per arrivare a quell'obiettivo è tutto da scrivere e come dicevamo la porta a porta quindi un'altra rivoluzione che però non c'entra nulla col traffico c'è un tempo e una quantità di novità che possono essere recepite se si esagera nella forzatura nel forzare questi tempi si rischia poi di non riuscire a trovare la giusta collaborazione della cittadinanza che invece è imprescindibile per centrare un obiettivo di miglioramento della qualità della vita complessiva quindi la premessa metodologica ancorché piuttosto chiara la lascio alla vostra lettura non ha bisogno di nessuna mia illustrazione la prima parte del piano parte dalla fotografia dell'esistente sono state posizionate delle piastre con dei pressostati quel meccanismo che consente di contare quante volte la piastre viene attraversata e in questo modo è stato censito a più riprese il livello del traffico per andare a classificare la diversa viabilità in funzione della sua destinazione e del suo livello e intensità di traffico ovviamente questo ci ha consentito di fotografare anche quelle che sono le criticità uno dei due quotidiani provinciali in questi giorni ad esempio aveva sollevato rilanciando alcune preoccupazioni dei cittadini la criticità di alcune strade del nostro territorio ecco che il piano funziona perché queste criticità sono state anche rilevate diciamo dall'analisi fatta che è durata alcuni anni anche se per periodi di alcune settimane nell'impianta vengono individuati i tratti adeguati i tratti inadeguati i nodi di primo livello i nodi di secondo livello e i nodi pericolosi questo ci consente ed è uno strumento che ovviamente verrà gestito dall'ufficio urbanistica dall'ufficio lavori pubblici e dalla nostra polizia municipale come linguaggio comune per coordinare qualunque politica sulla viabilità sul nostro territorio e il piano delimita il concetto di centro abitato ed è un concetto diciamo da codice della strada delimita anche il concetto di centro storico e questo è interessante perché voi sapete che centro è rientrata anche nelle città oggetto dell'alto provvedimento quello delle zone franche urbane che discende dalla sedia del terremoto e non esiste la possibilità di quantificare due centri storici diversi così come non esiste la possibilità di quantificare due centri abitati differenti quindi la programmazione che troviamo qui è la medesima che poi ritroveremo per la gestione del provvedimento delle zone franche urbane il PAIR quindi il piano aria dà un obiettivo molto ambizioso in termini di pedonalizzazioni e zone di traffico limitato faccio un commento personale credo che l'unico elemento di perplessità che mi ha sollevato suscitato la lettura della norma del cosiddetto PAIR è il fatto che di fatto non classifica le città se non in due macro categorie sopra i 30.000 abitanti e sotto i 30.000 abitanti chiaro che 31.000 abitanti o 150.000 abitanti o 2 milioni di abitanti non sono la stessa cosa quindi non credo che sia possibile pensabile applicare il piano aria con gli stessi parametri a Cento o a Bologna città metropolitana questa è una cosa che è stata evidenziata nelle riunioni di concertazione sia dal sindaco di Cento che da quello di Lugo di Carpi piuttosto che Imola che siamo quelle città che hanno ad esempio un trasporto pubblico locale fatto più per collegare i centri abitati con altri centri abitati piuttosto che per un movimento diciamo di distribuzione all'interno dei centri abitati stessi e quindi è chiaro che quello che abbiamo detto tutti più o meno con le stesse parole è che un conto è ragionare di una città che ad esempio ha la metropolitana di superficie o un sistema di autobus e un conto è ragionare in una città come la nostra che ha solo gli autobus che fanno per lo più tratte extraurbane o comunque di collegamento tra le varie frazioni la risposta e la trovate in qualche misura nella relazione specifica del put che ci siamo dati come comune di cento e sulla quale entraremo in dialogo con la regione Emilia Romagna è di indicare una serie di risposte agli obiettivi del piano e entrare in un confronto positivo con l'ente sovraordinato per dimostrare che alcune misure che vengono proposte al nostro piano hanno lo stesso effetto quindi sono equipollenti rispetto a quelle indicate come perentorie nella legge regionale che ha introdotto il PAIR quindi il piano prevede comunque un incremento progressivo ma significativo delle pedonalizzazioni e delle zone a traffico limitato il PAIR parlerebbe di un'estensione di pedonalizzazione perfettamente sovrapponibile al centro storico voi capite che questo per cento rischia di essere una misura sovradimensionata rispetto all'obiettivo parlo per me fortemente condiviso di migliorare anche la vita ai pedoni bisogna trovare però quell'equilibrio che consenta di muoverci in libertà cercando di rispettare gli interessi e i diritti di tutti troverete una sezione importante dedicata a questo troverete un'altra parte io credo ancora più importante che sono le cosiddette zone a traffico moderato o le zone a velocità limitata con la sottocategoria anche se non è classificata esattamente in questo modo delle cosiddette zone a traffico residenziale questo è un intervento molto forte come possibili obiettivi attesi risultati attesi che però dovrebbe riuscire quelle esigenze di migliorare la qualità della viabilità senza comprimere troppo le abitudini e le esigenze dei singoli cosa intendo dire il piano prevede progressivamente non dirò mai abbastanza che l'applicazione sarà graduale e progressiva prevede il bassamento del limite di velocità in parti significative del territorio del centro più densamente abitato per ampie zone il limite di 30 km all'ora o limite non deve spaventare perché in realtà se ci pensiamo non si può immaginare di fare in corso guercino neanche i 30 all'ora serve warning come messaggio per dire attenzione stai entrando in una zona che non ha le macchine come principali player come principali protagonisti ma le biciclette o i pedoni tu sei un ammesso ma la strada non è prioritariamente a te dedicata questa è la logica che è sottesa a questa classificazione di velocità diversa poi ci sono parti che troverete interessanti dedicate alla sosta mi avete già sentito dire molte volte che Cento ha vissuto un piano sosta che aveva un obiettivo che sinceramente capisco che era quello di incentivare la rotazione diciamo soprattutto nella parte più strettamente nevralgica del nostro centro storico ma ha avuto il limite di un'applicazione troppo omogenea delle tariffe e delle regolamentazioni che non hanno consentito di differenziare le diverse vie creando il paradossale risultato che lo dico con parole poverissime se mi costa uguale parcheggiare in corso Guercino o in via Donati come era ad esempio fino a qualche tempo fa beh allora parcheggerò sicuramente in corso Guercino perché quasi certamente dove voglio andare è in piazza o nelle vie più strettamente connesse al cuore del nostro centro storico la logica quella che viene suggerita in questa misura è di prevedere un piano più articolato che consenta di governare e indirizzare i flussi una parte significativa molto significativa è dedicata al tema della ciclabilità e qui apro una piccola parentesi ritornando al tema del PAIR del piano aria perché i due strumenti uno locale l'altro di legge regionale a cui noi dobbiamo adempiere con una nostra programmazione locale viaggiano comunque in parallelo hanno tempi che si incrociano in qualche misura si sovrappongono e che sono nel caso del piano traffico questo funzionale anche al soddisfacimento delle richieste dell'altra provvedimento normativo per rispondere al piano aria sono allo studio in realtà noi eravamo pronti per il primo ottobre per domani poi per i comuni tra i 30 e i 50 mila abitanti è stato dato un anno di proroga e quindi abbiamo deciso di inserire gradualità anche nell'adozione diciamo del piano di risposta al piano aria però prevediamo di inserire parcheggi scambiatori parcheggi dove lasciare la macchina e prendere ad esempio la bicicletta pubblica quelle con la tesserina per lo scambio strade di accesso che vadano in deroga rispetto ai limiti ad esempio per gli euro 0 per gli euro 1 per gli euro 3 diesel e che possono portare in parcheggi dedicati solo su itinerari specifici e delimitati la logica lo dico per capirci non può essere che una persona che viene da fuori 100 arriva a 100 legge perché sono previsti anche questi portali luminosi a led all'accesso all'ingresso di via ferrarese che un euro 1 si deve fermare lì e questo viene costretto a parcheggiare al Bennett e poi farsi alla piedi fino alla residenza municipale o casa Pannini quello che possiamo invece immaginare è che gli venga detto che può e deve imboccare esclusivamente un corridoio dedicato per arrivare ad esempio a parcheggiare a piazzale Marescalca e da lì poi lasciare la macchina e muoversi a piedi questo solo come esempio per capire la filosofia torno alla ciclabilità una parte dedicata alla ciclabilità dentro al centro storico una parte ancora più ampia a cosiddetta tavola 5 a quella che viene chiamata rete ciclabile e questo ne avete già sentito parlare molte volte è quel grande progetto di messa in rete dell'esistente con un sistema di riqualificazione e di segnaletica che consente di utilizzare in molti casi le strade più suggestive del nostro paesaggio partecipante come arterie per chi si muove con le due ruote per collegare l'una frazione con l'altra e in alcuni casi anche il nostro comune con altri comuni a noi limitrofi è un piano sviluppato direi oramai a livello di dettaglio che dovrebbe consentire io la voglio dire positiva consentirà di recuperare in termini di chilometri di piste ciclabili un gap un ritardo che il nostro comune ha molto significativo rispetto anche a città di dimensioni molto più ridotte rispetto alla nostra noi abbiamo pochi chilometri di ciclabile per abitanti dovremmo averne molto di più l'assessorato l'hai fatto come l'assessorato l'assessorato allo sport ha aderito al progetto motor che è un progetto regionale per le città turismo è un progetto turismo in effetti è un progetto regionale per le città amiche della bicicletta perché voi sapete che attorno al sistema delle piste ciclabili si è sviluppata una nicchia piuttosto rilevante anche dal punto di vista del valore economico di turismo di appassionati della due ruote è chiaro che noi stiamo nel progetto motor praticamente solo perché siamo vicini a Ferrara che è uno snodo importante rispetto al sistema delle ciclabili europee ma abbiamo un tempo per poter recuperare un ritardo che abbiamo come messa in rete appunto di un sistema di mobilità ciclabile che non solo consenta di spostarsi nel nostro territorio ma metta anche a sistema le emergenze a cominciare da quelle del paesaggio emergenze in senso positivo da quelle del paesaggio fino ad arrivare a quelle storiche e monumentali c'è una parte fotografica che rende piuttosto bene l'idea del perché le nostre ciclabili esistenti non sono straordinariamente adeguate perché molto spesso si riconducono una linea o bianca o gialla sul lato della careggiata mentre il progetto pensa a qualcosa di un pochino più articolato e ambizioso anche se la sfida è quella di mettere in rete l'esistente con il costruendo vado a concludere l'ultima parte del piano è regolamentare fa riferimento al cosiddetto regolamento viario ed è una sorta di rielaborazione organica e sistematica della summa di norme che già esistevano e questo è uno strumento che se correttamente divulgato dovrebbe aumentare la consapevolezza anche della nostra cittadinanza in particolare su questioni anche di strettissimo interesse individuale cioè qual è l'area di rispetto stradale in funzione della tipologia di strada quali alberature dove come funziona un incrocio quali distanze minime devono stare tra una recinzione o una fioriera e l'intersezione fra due strade eccetera questo è molto rapidamente il diciamo una poco più che una lettura dell'indice di un lavoro che è durato invece qualche qualche anno pur con delle pause ed è un altro tassello diciamo dal carattere programmatorio che questa amministrazione porta a realizzazione e vi invito a vederla così da un lato è stato fatto il piano della ricostruzione quindi una manovra urbanistica che in qualche misura ha ridotto no che in misura significativa ha ridotto il consumo di territorio e ha dato comunque un ordine al possibile sviluppo in termini urbanistici della città su questo va ad aggiungersi il piano regolatore delle antenne che verrà presto spero già nel prossimo consiglio comunale utile all'attenzione di quest'aula e che disciplina il tema delle antenne di telefonia mobile quindi un altro foglio diciamo che si sovrappone in una programmazione multilevel questo si aggiunge alla zonizzazione acustica che ha avuto un elemento di revisione e che concorre a migliorare la qualità percepita della vita ora un altro livello è quello della mobilità che concorre a costruire diciamo un pacchetto di provvedimenti di inquadramento che in maniera organica e coordinata tra loro non solo pongono correttivi e rimedi alle anomalie o gli elementi di pericolo o di distonia attualmente esistenti ma fungono da traccia per tutto ciò che avverrà dal giorno dopo la loro adozione fino almeno al decennio o forse qualcosa in più successivo per qualunque altra domanda o chiarimento rinvio al lavoro della commissione territorio se riterrà di fare sessioni specifiche su questo o altre occasioni tra cui alcune pubbliche di illustrazione ulteriore di questo piano bene grazie sindaco non c'è votazione per cui possiamo tranquillamente passare al secondo punto all'ordine del giorno comunicazione al consiglio sull'utilizzo del fondo di riserva relazione all'assessore Busi prego proviamo dunque le comunicazioni che vi faccio sull'utilizzo del fondo di riserva sono due una che si riferisse e sono comunicazioni che poi dopo saranno come dire affrontate dal consiglio anche per l'approvazione delle deliberazioni di giunta una si riferisse ai 1720 euro relativamente all'allestimento della cucina temporanea di credo di 12 morelli fino al mese di novembre 2015 e l'altro lo stone al fondo di riserva di 15.000 euro per il progetto di digitalizzazione dell'archivio anagrafico dell'archivio dell'anagrafe storica legato anche al progetto nulla osta per il mondo quindi sono due comunicazioni poi adesso dovremmo anche ratificare le deliberazioni di giunta che in questo caso sono le posso fare sono la numero 170 la numero 175 e allora la numero 100 ecco vengo corretto la numero 175 e appunto quella che si riferisse alla deliberazione nulla osta per il mondo studi e ricerca per l'immigrazione del territorio approvazione del progetto di digitalizzazione dell'archivio anagrafe storica variazione nel bilancio di previsione 2015 pluriannale 2015 e 2016 lo storno di riserva come 2015 l'abbiamo vi ho fatto comunicazione prima vi ho fatto una comunicazione prima questa questa deliberazione è una variazione alla una variazione di bilancio in quanto questa amministrazione comunale mette a disposizione di questo progetto 15.000 euro è un progetto importante abbiamo anche fatto domande abbiamo avuto una risposta positiva dalla regione miglia romagna relativamente all'erogazione di un finanziamento di 15.000 euro in base alla legge regionale numero 40 del primo dicembre 98 che appunto finanze anche progetti straordinari per la valorizzazione delle precisioni storiche artistiche culturali della nostra regione c'è anche l'assessore Claudio Tassinari che tanto si è impegnato poi se vuole dire qualcosa anche in sede di dibattito io illustro solamente la variazione di bilancio è evidente che questo è un progetto che parte da lontano e che ha come che parte con un duplice intento uno quello intanto di mettere in sicurezza e di archiviare digitalmente tutta una serie di documenti che vanno dal registro delle popolazioni alle schede individuali ai fogli di famiglia che oggi in parte sono depositati presso il municipio quindi anche questi il comune ha già cominciato a recuperarli e a portarli nell'archivio storico nostro questi documenti vanno digitalizzati in modo tale che anche i cittadini che oggi ne fanno richiesta possono avere le informazioni adeguate anche per la ricostruzione genealogica noi abbiamo tantissimi cittadini questo è il secondo punto che hanno origini centesi in particolare le nazesi che hanno avuto le famiglie che sono immigrate intorno all'inizio del secolo ed è la seconda parte nulla osta per il mondo si è riusciti a costruire una parte importante della storia del nostro comune che era stata dimenticata recuperando una serie di importanti una mola importante di documentazione ecco ci sono tantissimi cittadini anche che abitano non solamente che abitano anche in altri paesi europei e non solo europei che richiedono documentazione per poter poi costruire costruire il loro albero genealogico avere comunque cura delle proprie radici storiche tutto questo chiaramente sta è un progetto che appunto si muove su questi due versanti che impegna il comune di centro già da diversi anni e che oggi trova una sostanza ulteriore con il progetto di digitalizzazione e questo è l'oggetto diciamo della versione di bilancio di 15.000 euro che il comune mette a disposizione di questo progetto grazie spero di essere stato chiaro comunque la claudio è qui può integrare meglio di me quanto detto c'è da integrare no bene non c'è nessuna votazione neanche qui solo una comunicazione il consiglio sul utilizzo non ho capito certo allora prego Capurpo grazie no volevo solo fare una piccola riflessione e portarla a conoscenza del consiglio in merito questa ratifica della deliberazione d'urgente d'urgenza della giunta non tanto per dire che voterò negativo ma per motivare il perché che non è un negativo punto la motivazione è la seguente dedicare 30.000 euro a un progetto del genere in un contesto economico come questo pur vero che ce ne finanzia 15.000 la regione 15.000 ce ne mettiamo noi eppure è anche vero che una logica di servizi ai cittadini c'è anche però nel senso che incuriositi dall'idea di vedere il proprio albero genealogico eccetera eccetera di poter andare a ripristinare a rifare un po' di storie dei cittadini che sono andati via o che sono ritornati insomma avere un archivio digitale è sicuramente un'opera un'azione meritevole da un certo punto di vista non è non è un'operazione strampalata la ritengo invece non giustificabile nel contesto economico in cui ci troviamo oggi faccio un esempio banale mio bisnonno è nato a Vigarano nel 1849 mio padre nell'83 mio nonno nel 1883 mio padre nel 1922 io nel 1956 incuriosito dal mio albero genealogico sono andato in comune a Vigarano poco tempo fa per chiedere se potevo accedere ai dati antecedenti al 1849 e mi hanno detto di andare in canonica a spese mie come ho fatto stamattina a spese mie in un altro ufficio pubblico per ottenere dei dati che ovviamente non ho ottenuto perché gli uffici pubblici normalmente le risposte sono no poi dopo no poi forse ni poi forse so poi forse si dopo la settima volta in quasi tutti gli uffici pubblici non voglio dire che noi siamo meglio del comune di Vigarano voglio solo dire che noi forse abbiamo trovato il modo di finanziare quest'operazione mettendoci 15.000 euro dei nostri e 15.000 euro della regione ma la regione sono sempre soldi dei cittadini sono contributi pubblici non lo trovo giustificabile nel contesto in cui oggi noi siamo di questa crisi dove che non è più una crisi è un nuovo paradigma è una cosa diversa non abbiamo ancora capito che cos'è però sta di fatto che la gente soffre soffre economicamente soffre dal punto di vista degli acquisti delle cose fondamentali i cibi il vestiario i libri per la scuola e tante altre cose è inutile che fingiamo voi mi sentirete dire queste cose l'ho già detta per tante volte io non voglio dire è una cosa sbagliata la trovo non collocabile in questo attuale contesto quindi io non la voterei non la voto non la voto favorevolmente perché la ritengo un'operazione al momento ingiustificabile dato il contesto economico bene grazie altri interventi nessun intervento l'assessore Busi prima ha relazionato sul punto 2 dove non c'è da votare perché è solo una comunicazione noi adesso andiamo a votare la ratifica della deliberazione assoluta d'urgenza dalla giunta comunale numero 175 del 5-8-2015 chiaro chi è favorevole? favorevole gruppo PD federazione della sinistra chi è contrario? contrario noi che? chi ci astiene? astenuto Forza Italia per le frazioni e Lega Nord approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità punto 4 ruolo del giorno approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile Paes template del Comune di Cento e del Paes congiunto relaziona signor sindaco prego siamo tutti riduci da una commissione in cui il Paes è stato illustrato in maniera direi particolarmente articolata e di dettaglio io mi limiterei a strateggiare la filosofia fondante di questa di questo ulteriore strumento piuttosto ambizioso partendo sostanzialmente da da quello che ho avuto modo di rispondere a una azzeccata osservazione che Legambiente in qualità di associazione invitata permanente ai lavori della nostra commissione ha fatto cioè Legambiente sostanzialmente lamentava che il piano avrebbe secondo loro e ovviamente condivido la loro riflessione in quanto mi dà modo di spiegare perché non è così avrebbe secondo loro un insufficiente livello di analiticità dal punto di vista delle risposte operative che vengono messe in campo in realtà il PAES è lo dicevo prima o patto dei sindaci è un documento che parte dalla fotografia dell'esistente dal punto di vista della produzione dell'energia e della produzione meno positiva di CO2 quindi dell'emissione di CO2 in indride carbonica parte dalla fotografia dell'esistente segmenta l'esistente nelle varie fonti di produzione siano esse di energia o di inquinamento e da degli obiettivi che discendono diciamo da analisi e da flussi e da formule e da equazioni di carattere matematico degli obiettivi o dei meccanismi diciamo di costruzione degli obiettivi di aumento per la parte produzione di energia green e di riduzione per la parte emissione di CO2 in atmosfera sostanzialmente ne viene fuori una griglia tra ciò che succede oggi e ciò che ci diamo come obiettivo nel 2020 perché era il cosiddetto 20-20-20 cioè almeno 20% di energia pulita in più almeno 20% di emissioni di CO2 in meno e tutto ciò entro il 2020 dicevo si crea questa griglia che stabilisce in maniera chiara un patto territoriale di questo stiamo parlando il Comune di Cento ha fatto una scelta che dico una cosa banale rivendico perché ho concorso a questa decisione che è quella di non scrivere neanche in questo caso il libro dei sogni non darsi obiettivi che magari ti consentono oggi di fare una gran bella figura e poi chi vivrà vedrà ci siamo dati un obiettivo del 23% un obiettivo per un 40% circa già raggiunto perché negli ultimi 4 anni c'è già c'è stata una riduzione credo dell'11% delle emissioni in CO2 e che potrà proseguire centrando appunto il meno 23% con le misure con le manovre già o in atto o allo studio inteso come già oggetto di definizione puntuale dico pochissime altre cose poi lascio lo spazio al dibattito eventualmente interverrò in sede di puntualizzazioni da un certo punto di vista parlavamo prima del piano traffico quello è un pezzetto dell'obiettivo PAES prima citavo il piano della ricostruzione un altro pezzetto dell'obiettivo PAES c'è il tema dell'efficientamento l'abbiamo deliberato in questo consiglio nella nostra relazione previsionale programmatica e l'abbiamo ulteriormente approvato nell'ambito del cosiddetto programma d'area ci diamo l'obiettivo e quello è un obiettivo concreto perché è una cosa che sta per iniziare dell'efficientamento energetico il passaggio da tecnologia incandescenza a tecnologia LED dell'intero illuminazione pubblica dell'intero centro storico del capoluogo quello è un altro tassello che concorrerà a ridurre le emissioni e ridurre il fabbisogno diciamo di energia e quindi in qualche misura ridurre la non autosufficienza energetica del nostro paese un ulteriore tassello è dato dal passaggio al porta a porta che abbiamo adottato sempre in questo consiglio comunale poco tempo fa e che sta andando a regime in maniera piuttosto veloce perché è evidente maggiore è la percentuale di raccolta differenziata minore capisco di dire una cosa tautologica è la percentuale di indifferenziato che viene smaltito in inceneritore e quindi minore è la quantità di CO2 che andiamo a immettere in atmosfera quindi vedete che in realtà non solo questo paese è lontano da avere concreta attuazione ma addirittura mette a sistema e coordina tante cose che nel tempo sono già avvenute o sono in cammino questo è credo questa è una buona notizia perché vuol dire che ci diamo un obiettivo realistico con la consapevolezza che questa generazione di amministratori pubblici locali farà il proprio sta facendo oggi fa e poi dopo ovviamente dopo aver fatto un tratto di penna bisogna stare di fianco con la sensibilizzazione sul territorio con la promozione verso la gente con l'individuazione di tutti quegli strumenti che accelerano facilitano e rendono intellegibili comprensibili e accettabili i processi però questa generazione di amministratori fa il proprio pezzo la parte del proprio dovere diciamo per provare a consegnare alle generazioni che verranno un mondo un po' meglio un po' più ecologico un po' più pulito un po' più sano con una prospettiva di vita un po' migliore rispetto a quello che ancorché per motivi straordinariamente validi che era il sogno del progresso e del benessere abbiamo a nostra volta ereditato da quelle classi di amministratori che ci hanno preceduto e che non avevano gli strumenti di consapevolezza di conoscenza che abbiamo noi oggi interventi capogruppo Magagna prego grazie presidente apprezzo che il sindaco abbia detto ci siamo voluti stare sul concreto non abbiamo voluto fare il libro dei sogni perché effettivamente se uno va a vedere in ogni comune le previsioni il comune dicente è quello che ha una previsione in percentuale più bassa di tutti gli altri per la diminuzione del CO2 infatti Bondeno avrebbe la previsione del 40 Mirabello del 24 3 Poggio Renatico del 37 Sant'Agostino 37 3 Vigarano il 35 6 e noi come ha detto il sindaco del 22 8 però queste sono le previsioni se andiamo a vedere però anche gli aspetti invece quelli già concreti quindi la diminuzione dal 2007 al 2013 se guardiamo i numeri però siamo sempre in quell'ordine di idee lì perché risultiamo il secondo comune peggiore per quanto riguarda la diminuzione quindi se i numeri dal 2007 al 2013 vengono rispettati anche nelle previsioni vuol dire che gli altri comuni hanno lavorato meglio prima e forse lavoreranno meglio dopo perché se andiamo a vedere quelli che non sono previsioni Bondeno è riuscito a scendere del 26% Mirabello del 9,5 Poggio Renatico del 12,5 Sant'Agostino del 26,6 Vigarano Mai Narda del 18,2 e se guardiamo l'aggregato di tutti i comuni tutti i comuni congiuntamente sono scesi del 16,6 e la previsione è di scendere del 39 quindi ok sulle previsioni siamo voluti stare sul concreto però anche sul concreto già che c'è la diminuzione già reale che c'è stata siamo stati però quasi il fanalino di coda e un aspetto che comunque l'ha evidenziato anche il sindaco che secondo me lascia un po' così queste previsioni sono dove si pensa di andare e questo non riguarda solo centro riguarda bene o male tutti i comuni dove si pensa di andare a diminuirle perché quando uno dice come se ne è prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici pubblici ok quello possiamo anche riuscire a metterci la mano ma quando uno mi dice la realizzazione di impianti fotovoltaici privati il privato lo fa se è incentivato se c'è i soldi se vengono in campo altre motivazioni che non possono non dipendono dal pubblico quindi si spera si pensa si crede ma non si sa su quello e lo stesso discorso vale per gli impianti di cogenerazione quelli pubblici quelli ci possiamo mettere mano il risparmio energetico tranne appalti tramite appalti di gestione calore ci possiamo mettere a mano ma il dato che secondo me è quello proprio che assolutamente è imprevedibile e non il pubblico non potrà mai riuscire concretamente a incidere su questo è l'efficientamento del parco mezzo del parco mezzi privati quelli il discorso di prima se uno ha i soldi se uno è incentivato a cambiarla se adesso la Volkswagen cambia le centraline quello lì fa diminuire il tutto però sì sono previsioni che mi auguro si possa realizzare ma molte di queste sono agli attori cioè non ci sono certezze diciamo sì la mia era una considerazione un po' sui numeri bene grazie capocruppo Mattarelli prego ieri sera in commissione ambiente ho apprezzato quello che ha detto il sindaco in particolare in merito ai rifiuti ai rifiuti indifferenziati non tanto per quello che stiamo facendo che è faticoso il cambiamento il sindaco l'ha detto ognuno di noi quando li cambiamo da qui a qui tutti noi da fastidio e voglio riportare al consiglio le riflessioni che ieri sera facevo dentro di me mentre ascoltavo il sindaco oggi le faccio qui pubblicamente di fronte a tutti per dire che quelle riflessioni che il sindaco ha fatto in merito alla raccolta indifferenziata che è uno dei componenti del questo studio piuttosto articolato per la energia sostenibile dove il peso preponderante è dovuto alla circolazione stradale non dimentichiamolo sia in tutto l'auto ferrarese sia a cento città e le considerazioni che voglio fare pubblicamente al consiglio sono queste io voterò a favore di questo paes anche se lo ritengo uno studio che ci può dare una una linea una direttiva ci può dare un obiettivo da raggiungere ma non sarà determinante nel raggiungere se ognuno di noi ogni individuo che ha bipede che ha un cervello che pensa non si comporta adeguatamente a quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e qui mi ricollego quello che ha detto il sindaco ieri sera e devo dirlo devo metterlo in questa sede pubblicamente il sindaco ha detto se noi mettiamo dei sacchetti per la raccolta indifferenziata assolutamente oscurati dove uno dentro ci può mettere anche un gatto morto faccio per dire e però non si vede chiaramente quello che ha ancora la mentalità di usare la roba degli altri come se fosse sua tenta di approfittarne ecco spiegato il sacchetto trasparente di Dio ma perché una schifezza del genere che si vede ci ho pensato ci ho pensato anche mentre il sindaco lo diceva ci ho pensato anche fuori via c'è una sua logica perché ognuno di noi ha dei comportamenti che sono abitudinari tendono ad essere come posso dire anche di carattere opportunistico e quindi l'indifferenziata che è costosa costa di più al momento diventerà un vero driver per raggiungere gli obiettivi del PAES concorrendo con gli altri obiettivi a raggiungere quel dato se ognuno di noi ne potrà anche un vantaggio individuale ed è quello di cercare di spendere meno quando si va a pagare la bolletta dei rifiuti credo che quello sia un obiettivo da perseguire velocemente perché solo così la gente capirà cavolo se io porto affinché il gatto morto dentro nel sacco del rifiuto lo porto purtroppo l'animale muore dove deve andare o il o il mobile vecchio o il o il materasso eccetera eccetera allora alla fine spendo 20-30% in meno avremo un vantaggio lo stesso ragionamento lo possiamo fare nell'ambito della circolazione stradale ora io invito l'amministrazione ripeto voterò a favore di questo PAES per due motivi primo quello che ha detto il sindaco ieri sera secondo perché è il primo io che mi risulti atto concreto dell'unione dei comuni dell'alto ferrarese io altri atti non li ho visti perciò il sindaco che è stato presidente dell'unione dei comuni dell'alto ferrarese fino a poco tempo fa ha dato prova almeno con questo atto vedremo in seguito se l'unione funziona di produrre un qualcosa di in comune in comune con i comuni dell'alto ferrarese vediamo se questi risultati li otterremo ma i risultati dipendono da tutti quanti noi finché noi abbiamo la mentalità di portare un bambino da 30 kg con un cayenne da 30 quintali a scuola è inutile che noi cerchiamo di perseguire il riduzione della CO2 per il traffico stradale perché se noi vogliamo andare a far vedere che abbiamo un cayenne da 30 quintali che costa 100 mila euro e viene giù un bambino alto così insomma facciamo un po' fatica a ridurre a cambiare questa mentalità parto da me per primo che sono venuto in consiglio comunale con un 3 mila potevo venire in bicicletta anche se è freddo anche se piove perché una volta era così allora il benessere non è più far vedere che hai denaro perché possiedi una vettura che è un 3 mila un 5 mila o una marca premium il benessere è far vedere che hai capito che ti interessi degli altri e del tuo territorio portando a scuola il bambino in bicicletta anche se è freddo anche se è freddo o facendocelo andare a piedi se si può allora io invito chiunque qualsiasi qualsiasi nostro come posso dire cittadino a fare in modo in maniera che le nostre abitudini di vita di comportamento di di riscaldamento degli ambienti eccetera eccetera siano coerenti con questi obiettivi però va aggiunto anche questo è inutile pensare di ridurre l'emissione del traffico automobilistico o stradale solo con la nostra buona volontà anche con la nostra buona volontà ma finché il governo e il governo è un governo targato PD siete voi che governate questo paese in questo momento non dà gli incentivi che gli altri governi europei danno per le vetture a basso inquinamento per le vetture elettriche in Olanda in Francia in Germania i paesi dell'extra Europa non sono ben informato per l'acquisto di una vettura elettrica ci sono contributi fino a 7 mila euro a fondo perduto io dico voi siete influenti con il governo voi potete parlare con il nostro signor primo ministro non eletto da nessuno però è il primo ministro di questo paese e dirgli signor primo ministro ma lei anziché tagliare solo dei fondi nei vari settori in cui stiamo cercando di tagliare non potremmo anche aggiungere qualche cosa in merito all'incentivazione per i veicoli a basso impatto ambientale che sono gli elettrici che sono i veicoli come si chiamano ibridi che adesso fra l'altro la formula 1 punta solo esclusivamente su quello le formula 1 qualche anno fa erano dei 3.600 di cilindrata oggi sono dei 1.500 forse non tutti lo sanno 1.500 di cilindrata contro 3.600 di qualche anno fa che vuol dire non sono meno potenti ma sfruttano la potenza del motore per ricaricare l'impianto elettrico il quale produce altri 200 cavalli di energia ma l'impianto elettrico non funziona con della benzina ma la formula 1 va più forte di prima allora cosa vuol dire che questa tecnologia deve essere facilitata perché la gente la compri una macchina ibrida oggi costa il 20% in più di una vettura normale una panda ibrida l'angebrese non esiste la FCA non la produce ecco è un ragionamento troppo ampio non voglio andare fuori tema ciò non toglie ciò non toglie che la riflessione la riflessione che ha fatto il sindaco di sera mi ha fatto capire che effettivamente dipende un po' da tutti quanti noi la modalità per ridurre gli le emissioni per fare in modo che questo territorio rimanga un attimino un po' più meno devastato di quello che è adesso e perciò anche se il Paese è molto ambizioso probabilmente di difficile raggiungimento ma però è un driver che dobbiamo avere di fronte a noi e ognuno di noi dovrebbe prenderlo come impegno per cercare di contribuire singolarmente a questi risultati perciò il mio voto sarà favorevole grazie grazie capogruppo Mazzarelli altri interventi sono altri interventi sindaco due parole prego sì due risposte al capogruppo Magagna e una considerazione sull'intervento del capogruppo Mazzarelli capogruppo Magagna ma perché noi amiamo fare così me la potrei cavare dicendo che il periodo 2007-2011 è stato pesantemente pregiudicato dal periodo 2007-2013 pesantemente pregiudicato dal periodo 2007-2011 quando governava il centro destro ma non dirò questo perché cerco di essere più serio lo so che capogruppo lei non pretenderà che io cominci a deluderla adesso lei ha il suo ruolo anche io e il mio lei dice le cose lei alza io devo schiacciare ma in realtà no le darò una risposta più articolata e secondo me credo anche interessante ed è legata da un lato alle dimensioni dall'altro alle caratteristiche della nostra città noi siamo un distretto industriale rilevante e si vede negli aerogrammi in maniera significativa quanto il sistema produttivo incida in maniera significativa allora è evidente che ad esempio le vocazioni produttive di Bondeno e di Cento sono profondamente diverse noi abbiamo un livello di viabilità e di mobilità oggettivamente diverso non a caso siamo l'unico comune tra quelli interessati dal Paes a eccezione di Bondeno anche se dico in misura comunque diversa rispetto a noi ad avere un centro storico articolato e strutturato su una base diciamo risalente su pianta antica abbiamo una serie di caratteristiche siamo un polo scolastico che ci fa naturale gravitazione di un bacino di utilizzatori e quindi cito il capogruppo Mantarelli che sa che quella parte mi diverte particolarmente di SUV da 30 quintali che vengono anche di importazione cioè non necessariamente noi abbiamo un'utenza per i nostri istituti in particolare quelli superiori ma non solo che tra valliche e confini del nostro comune quindi abbiamo un traffico indotto siamo l'unico comune ad avere un ospedale il quale viva Dio che ce l'abbiamo il quale crea traffico indotto siamo innegabilmente il principale comune erogatore di servizi per l'intero comprensorio alto ferrarese e pianura bolognese e modenese servizi che generano traffico indotto è dunque normale e questo lo dico anche a parziale in questo caso specifico giustificazione delle pessime politiche ambientali del centro-destra e quindi normale ve l'ho detto scherzando è vero però non è che lo volevo dire in questo contesto è quindi normale che il nostro dato sia un dato peggiore rispetto a comuni di dimensioni più ridotte interessati sì da un traffico di attraversamento che pure abbiamo anche noi perché siamo sulla direttrice Ferrara Modena e Bologna Modena come lo sono gli altri ma abbiamo una serie di specificità che ci rendono disomogenee rispetto all'alto ferrarese ma è una disomogeneità che noi stiamo cercando di difendere perché è quella disomogeneità che discende dal fatto di essere un polo di servizi di rilevanza sovracomunale diciamo meglio il secondo polo di servizi più rilevante alla nostra provincia dopo il capoluogo cioè dopo Ferrara sul tema del parco mezzi privati invece le davo un elemento perché forse l'ho spiegato male prima ma già il PAIR darà un'incentivazione fortissima al cambio del parco mezzi per questo anche che dicevo no provi a seguirmi è per questo che dicevo che la parola d'ordine dovrà essere gradualità proprio perché non abbiamo intenzione di mettere le persone di fronte alla scelta lascio la macchina o mi rovino economicamente però il PAIR ad esempio stabilisce che dal 1 ottobre 2016 determinate tipologie di automezzi gli Euro 0 gli Euro 1 gli Euro 3 se diesel non potranno più varcare il confine del comune questo cosa vuol dire in particolare per quelle categorie che fanno del mezzo un elemento di di lavoro penso ad esempio a tutto il sistema del trasporto su gomma professionale è evidente che questo moltiplicato su base e regione aprirà finestre di progetti e percorsi di finanziamento ad esempio perché quelle determinate tipologie di piccoli piccolissimi imprenditori dovranno in qualche modo essere accompagnati su un percorso di revisione del mezzo perché differentemente non penso si possa immaginare che il piccolo padroncino l'ultimi 4 chilometri di consegna li fa a piedi col carrello bisognerà che in qualche misura venga accompagnato e di questo si starà già ragionando con la regione quindi il PAIR sarà rubo ancora a matarell'espressione un driver per metterci tutti sulla direttrice verso questo adeguamento in qualche misura la norma accelererà anche quel processo di revisione del parco mezzi privati che ha però ricadute la revisione anche dal punto di vista non solo ecologico ma anche economico perché un euro zero oggi è economicamente non compatibile capisco che una persona sia spesso per necessità messa di fronte non alla scelta ma all'obbligo di non cambiare la macchina ma il percorso virtuoso è quello di incentivare questa opportunità perché è una parte significativa del ritorno per l'ambiente ma una parte ancora più significativa per il portafoglio perché quando l'amministrazione comunale ha rottamato la libra che era dotazione diciamo del sindaco degli amministratori lo ha fatto perché aveva i suoi chilometri ma lo ha fatto soprattutto perché era eticamente di dubbio e sostenibilità continuare ad accendere una macchina che produceva da sola l'inquinamento di quattro panda era oggettivamente eticamente e moralmente non più sostenibile ma ne abbiamo vista la ricaduta anche dal punto di vista dei conti sui consumi inevitabilmente è evidente un'ultima riflessione invece sull'intervento del capolupo Pantarelli per cogliere il destro che mi ha dato per rimarcare che già oggi il beneficio in bolletta si vedrebbe perché ad esempio tutto ciò che viene conferito direttamente al punto di raccolta di via Malamini finisce in una specifica riga della Tarip per fare mio l'auspicio che Mattarelli faceva quello di dire bisogna fare presto per arrivare alla tarifa puntuale tutti voi sapete che l'abbiamo già deliberata proprio in questo consiglio siamo già passate tarifa puntuale adesso bisogna che tutti assieme procediamo velocemente perché me l'avete sentito dire molte volte la campana del vetro può essere una fonte di reddito se dentro la campana c'è solo vetro rischia di diventare una fonte di spesa se dentro la campana non c'è solo vetro perché il consorzio ti paga per portarla via se la qualità del differenziato è buona oppure si fa pagare per portarla via se la qualità del differenziato non è buona quindi è per questo che purtroppo diciamo gli errori del mio vicino rischio di pagarli anch'io per quello che bisogna il tuo vicino se Vasco Fortini si è tranquilli ma no si stava risentendo no per quello bisogna stare davvero come comunità uno accanto all'altro cercare tutti assieme di vincere questa sfida sugli incentivi dell'ibrido nell'emore della mia occasione per parlare con il presidente del consiglio quello che posso dire è che abbiamo avviato con Ica un percorso di valutazione per andare a esonerare una parte del tempo della sosta a pagamento per le auto elettriche e per le auto ibride credo possa essere un gesto chiaro che questo non cambia la vita a nessuno però credo che possa essere un gesto che va nella corretta direzione almeno dal punto di vista del simbolo della sensibilizzazione ovviamente anche in questo caso noi ragioniamo di piano sosta con un contratto già sottoscritto che abbiamo ereditato e quindi abbiamo un margine di flessibilità molto modesto insomma però domandare sempre lecito e fino ad oggi siamo sempre riusciti a portare a un tavolo di discussione non dico neanche di trattativa il gestore che si ha giudicato il contratto e l'appalto bene grazie sindaco altri interventi mettiamo in votazione allora il punto 4 all'ordine del giorno approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile PAES del comune di Cento e del PAES congiunto che è favorevole gruppo PD federazione della sinistra noi che chi ci stiene astenuto Forza Italia Lega Nord e per le frazioni approvato a maggioranza passiamo al punto numero non c'è sulla delibera non ci ho guardato però immediata esecutività della delibera una limità punto 5 l'ore del giorno nomina collegio dei revisori dei conti per il triennio settembre 2015 settembre 2018 relaziona Sessore Busi prego grazie presidente la deliberazione numero 38 appunto la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio settembre 2015 e settembre 2018 come sapete la novità più rilevante è data dal fatto che si procede per sorteggio d'apposito elenco giacente in prefettura questo è il frutto di tutta una serie di come dire di decreti leggi e di normative che l'ultima della quale è stata pubblicata la gazzetta ufficiale del 4 dicembre 2012 si è appunto provveduto per quanto riguarda il comune di Cento alla inseduta pubblica al sotteggio sono stati sotteggiati i seguenti revisori Gualtieri Angelo che poi ha rinunciato immediatamente quindi al posto di Gualtieri vi è la surroga di Pizzighini Simona e il consiglio quindi il collegio del sindacale è composto da Cremonini Ivana Bovino Alfonso Pizzighini Simoni e poi altri guidi Pironi Cerdai Boraschi Fontana che possono essere eventualmente essere oggetto di surroga se per caso ci sono delle rinunce o ci sono delle oppure delle rinunce in questo caso il collegio si è già ha già in qualche modo definito quale sarà il presidente che è la Cremonini Ivana quindi noi oggi andiamo appunto a deliberare la composizione del collegio dei revisori dei conti che è composto da Cremonini Ivana presidente Bovino Alfonso componente Pizzighini Simona componente definiamo anche i compensi che sono poi tarati rispetto ai parametri definiti e definiamo anche quelli che sono oneri e accessori dovuti a rimborso a rimborso per quanto riguarda la partecipazione presentando eventualmente il documento di viaggio o un quinto del costo della benzina quindi una volta che noi nomineremo stasera il collegio dei revisori esso diventerà immediatamente operativo e svolgerà quella funzione appunto di controllo e di revisione dei conti dell'amministrazione comunale di Cento grazie bene interventi non c'è nessuno capogruppo Magagna prego grazie presidente sarò c'ho una domanda e poi una considerazione molto molto breve la domanda era che l'avevo chiesta anche nella capogruppo ma non mi è stato risposto volevo sapere questo dove si sorteggiano sono esclusivamente della provincia fuori provincia sono anche fuori regione era una curiosità che mi volevo togliere solo dentro la regione quindi ok mentre la considerazione è molto semplice sono contento di questo cambiamento per la nomina ritengo che un sorteggio dia una garanzia ulteriore anche prima c'era trasparenza però uno lo metti te due li metto io dava sempre adito a considerazioni non proprio lusinghier diciamo su questo su queste nomine invece un sorteggio secondo me è la cosa più giusta che ci possa essere perché essendo sorteggio nessuno decide chi è che va lì e quindi lo reputo un passaggio positivo e questo mi farà votare favorevolmente una considerazione ulteriore è che spero che si arrivi poi anche al fatto che queste persone poi se fanno considerazioni sbagliate errate possono e debbano pagare loro per le loro considerazioni però è un passaggio che per adesso è probabilmente ancora prematuro però auspico che si possa arrivare anche in quella direzione lì comunque il voto della Lega Nord sarà positivo bene grazie Capogruppo Magagna altri interventi Capogruppo Mattarelli prego grazie mi avete già sentito parlare della mia opinione sui sindaci e del visore in più occasioni con più o meno sempre la stessa motivazione purtroppo devo ripercorrere queste considerazioni perché se è vero che la nomina dei sindaci di visori da un albo costituito a livello regionale per estrazione li rende un pochino più indipendenti dalla politica al contrario di quello che avveniva fino a prima di questo decreto che ripeto credo che sia un decreto del famigerato governo Monti perché risale al 2011 e se non vado errato è uno dei motivi in cui si tentava quel famoso che considero tuttora il peggior governo della storia dell'umanità di ridurre quella che era l'influenza della politica sulla pubblica amministrazione sui conti dello Stato e quindi sui soldi pubblici tramite lo sgancio dalla politica alle nomine ora è vero che c'è un pochino più di indipendenza il fatto che i sindaci e i revisori siano non mi siano estratti e sorte questi signori evidentemente non avranno dei debiti politici nei confronti di qualcuno il che non vuol dire che quelli di prima avessero delle riconoscenze capiamoci bene nei confronti di qualcuno però probabilmente lo scambio virtuale di posizioni maggioranza minoranza avveniva anche in quel modo infatti uno dei sindaci i sindaci e i revisori erano della minoranza due dei sindaci e i revisori erano della maggioranza eccetera eccetera tutto questo però non toglie e quindi questo è un fatto positivo tutto questo però non toglie quello che è il difetto di fondo della revisione dei conti e non solo a livello pubblico anche a livello privato ora voi sapete tutti come sono le le cronache di questi giorni un altro degli scandali più importanti che ci sono in esplosione è quello di una banca vicentina molto molto conosciuta molto nota il cui presidente è un viticoltore importante viticoltore importante il più importante d'Italia attualmente indagato per aggiottaggio insieme al suo direttore generale a loro volta quei relatici a vicenda e sembra che presto arrivi anche la procura a chiamare per la giacca i cosiddetti sindaci e i risori i quali dicevano questi bilanci sono ok tutto è certificato tutto bello tutto perfetto ma le azioni da 62 euro adesso sono 43 e forse non si sa quando saranno quotate a quanto andranno allora io continuo a dire questa cosa i sindaci e i risori sono dei professionisti io pure sono un dottore commercialista non iscritto all'album però quello che io dico è questo i sindaci e i risori del comune dicendo fin tanto che come ha detto il collega Magagna giustamente non saranno coperti da una fideusione che garantirà i cittadini di 100 per un importo da determinarsi in base all'attivo del bilancio del comune di 100 e quindi se il comune di 100 ha un attivo di bilancio di 90 milioni se ricordo bene parlo dell'attivo di bilancio ha entrate e uscite per circa 34 35 milioni questi signori qui che dicono che il bilancio è fatto in modo rispettando le norme formalmente preciso fanno una bella fideusione nei confronti dei cittadini della durata del loro mandato più tre anni dopo più tre anni dopo di percentualmente uguale all'importo del bilancio di circa non so diciamo il un per cento due per cento cinque per cento quello che è stabilito dalle normative internazionali fin tanto non c'è che non c'è quella garanzia lì ovvero sì è quello che ha detto anche il mio collega Magagna io ti voto il bilancio cosa dicono i sindaci divisori se il bilancio è ok ma formalmente questo è un foglio bianco scritto in nero sono capaci tutti di dire è un foglio bianco scritto in nero io voglio vedere dove sono i soldi come hanno girato i soldi come sono messi dove hanno girato dove sono andati chi li ha spesi perché è tutto scritto nel bilancio certo che è tutto scritto però sono 400 pagine più gli allegati quindi il cittadino comune non lo farà mai non andrà mai a vederlo se però i sindaci e i divisori un bel giorno ti dicono cittadino comune il bilancio è autentico approvalo oppure stai tranquillo perché io comunque ci rimetterei 500 mila euro se ti dicessi che non è vero allora le cose cambierebbero purtroppo siamo in Italia vediamo che la povera gente dico la povera gente quella che è costretta a rubare da mangiare nei supermercati viene arrestata quelli che fanno le truppe miliardarie vanno sulle prime pagine dei giornali qualche rarissima volta vanno in galera qualche rarissima volta vanno in galera non gli prendono mai i soldi e quindi loro vivono felici e contenti a discapito della gente comune perciò io per questo aspetto sono contrario per l'aspetto del sorteggio sono favorevole somma delle due posizioni mi estendo chiarissimo capogruppo mortarelli altri interventi linelli consigliere linelli prego buonasera a tutti invece io devo dire che contro tendenza non sono favorevole al sorteggio nel senso che secondo me posto che l'organo di revisione è un organo a tutela del consiglio comunale a tutela del consiglio comunale pagato dal comune io ritengo che già da prima che potevamo scegliere i componenti del collegio dei revisori da degli elenchi non chiunque noi potessimo scegliere su delle professionalità e la serietà portava a scegliere sulla professionalità io credo che pertanto il sistema di prima fosse assolutamente più favorevole oggi come oggi io devo prendere un collegio dei revisori che non conosco che mi viene imposto e lo devo pure votare questo è il mio pensiero anche se voteremo favorevole nel senso che dobbiamo avere il collegio dei revisori ma io non vedo assolutamente il vantaggio assolutamente grazie bene altri altri interventi no quindi punto numero 5 nomina collegio del revisore dei conti per il triennio settembre 2015 settembre 2018 chi è favorevole gruppo PD fede della seconda sinistra noi che per le frazioni Lega Nord chi si astiene ha stenuto noi che e Forza Italia approvato a maggioranza prego no 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 chiarissimo chiarissimo è la somma algebrica meno per meno a volte da più immediata esecutività della delibera che è favorevole unanimità punto 6 consulte civiche suruga consultori dimissionari prego sindaco nella procedura che abbiamo già fatto altre volte abbiamo tre dimissioni e procediamo alle tre elezioni è un paradosso del nostro regolamento si dovrà votare con scheda scrutinio segreto la scheda è già compilata da un'indicazione se la condividiamo tutti posto che la scheda è compilata e dunque non è possibile consegnare scheda bianca perché il nome c'è già scritto la proposta operativa sarebbe chi è favorevole mette la croce accanto al nome chi non vota e quindi vuole consegnare la scheda bianca non appone nessuna croce e consegna la scheda esattamente come l'ha ricevuta non è possibile votare contro o votare nomi diversi perché il meccanismo di surroga fa sì che sia lo stesso gruppo consigliare che aveva nominato il surroga vabbè quello il consultore da surrogare perché è surrogato veramente brutto a indicare il nominativo del subentrante quindi la persona che noi oggi andremo ad eleggere quindi la procedura ci richiederà alcuni minuti ma se il presidente c'è il capogruppo magari anche credo voglia chiedere qualcosa prego prego volevo solo evidenziare che secondo me si poteva accelerare decisamente di più la surroga perché qui andiamo a surrogare la ferrarini che si era dimessa quando è venuta da consigliere comunale è stato due anni fa fatto tempo dopo un anno a dimettersi subentrare lui e adesso si va anche a surrogare lui che cioè lui sarebbe Pareschi il consigliere Pareschi che è già qui da un anno quindi oggettivamente io che reputo le consulte uno strumento per sentire i cittadini molto importante questo non aiuta sicuramente la collaborazione con le stesse perché per fare un atto di questo genere credo che non si dovesse aspettare due anni per uno un anno per il consigliere Pareschi adesso gli altri non ho visto quando si sono dimessi però comunque sicuramente il più vecchio due anni che sta aspettando la surroga questo sicuramente non aiuta la collaborazione tra l'amministrazione le consulte e il cittadino era una considerazione chiarisco una cosa che ho generato io una parte di fraintendimento nel senso che i tre nomi la surroga della signora Cinzia Ferrarini è già avvenuta oggi noi prendiamo semplicemente atto che questa è avvenuta per decreto del sindaco così come per la surroga della signora Sonia Ferri e del signor Nelson Zagni oggi noi semplicemente ci occupiamo di Barbara Baruffaldi come? sì di questi Barbara Baruffaldi e Emilia Bagni due di Missionari e di Fausto Pareschi è vero che su Fausto Pareschi ci sono stati necessari tempi mediamente lunghi va detto che non tutte le comunicazioni sono arrivate nei tempi più rapidi possibili e in ogni caso la logica che ti sei dimesso tu l'hai detto in tempo utilissimo non era a te il riferimento e la non era a lei il riferimento e la logica è stata quella di cercare di accorpare per non fare molti passaggi di surga assicuro che comunque il funzionamento delle consulte non è mai stato pregiudicato perché c'è sempre stato sia il numero legale che la possibilità di convocarle quindi diamo le schede i scrutatori Magagna Testoni e Mattioli no chi è l'altro grazie 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 balboni balboni 2 3 3 5 6 anche secondo me grazie 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 la Anche uno da maggiorare. Anche uno. Quindi proclamiamo eletta alla consulta di Renocentese Balboni Aldo con nove voti e cinque astenuti. Adesso andiamo a votare la delibera che recita consulte civiche e surroga consultori e missionari. Chi è favorevole? Un'animità. Immediata esecutività della delibera. Un'animità. Punto 7. Approvazione e convenzione tra il Comune di Centro e il Comune di Finale Meglia per il servizio di trasporto scolastico a decorrere dal 2015-2016 fino al 31 agosto 2020. Approvazione e convenzione tra il Comune di Centro e il Comune di Finale Meglia. Il servizio scolastico mensa dopo scuola, centri recreativi estivi a decorrere dal 2015-2015-2016 fino al 31-8-2020 come la delibera precedente. Bene, signor Sindaco, prego. Sì, in sostituzione dell'assessore Rolfini che è impossibilitata per ragione di lavoro a partecipare ai nostri lavori. In realtà non c'è nulla di nuovo in queste due delibere, per questo ho proposto alla Presidenza di discuterle congiuntamente. Ovviamente dovranno poi essere votate disgiuntamente. E' la stessa cosa che avviene oramai da qualche anno con tutti i Comuni confinanti e con qualche Comune non confinante con il nostro e questa convenzione cosiddetta di reciprocità che sostanzialmente consente di rimediare a quella che è stata per anni una evidente manifesta ingiustizia, cioè cosa capitava, in particolare per le frazioni divise fra più comuni poteva succedere che il residente da un lato della strada, magari perché è residente in un altro territorio dal punto di vista formale quindi in un altro comune diverso dal nostro, pagasse una tariffa completamente diversa rispetto a quella riservata ai cittadini residenti nel Comune di Cento. Siccome la tariffa del fuoricomune è significativamente più alta abbiamo generato la prassi e l'abbiamo completata già da tempo questi sono i primi che sono in rinnovo di queste cosiddette delibere di reciprocità il che vuol dire che penso a Casumaro, quella parte dei cittadini residenti nel Comune di Finale Miglia che però sono casumaresi e sapete che Casumaro formalmente è una frazione del Comune di Cento e quindi portano i loro figli nelle scuole del Comune di Cento di Casumaro in ragione di questa delibera pagano il trasporto scolastico, la mense, il doposcuole, i centri ricreativi estivi esattamente con il sistema tariffario che sarebbe loro riservato se fossero cittadini del Comune di Cento la stessa cosa avviene per i cittadini del Comune di Cento quando si spostano nel Comune che ha sottoscritto assieme a noi questa convenzione di reciprocità. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo credo, quindi non c'è bisogno di interventi. Mettiamo, ce n'è bisogno? Prego Magagna. Capogruppo. Grazie Presidente, nel punto 8 volevo capire una cosa, nel permesso si evidenzia che questa convenzione è stata fatta nel 2012-2013 quindi diciamo anno per anno, come mai questa volta si è scelto di fare un pacchetto di 5 anni tutto sospettavo per quello che ho chiesto? Sindaco sa sempre tutto, prego Sindaco. Lo so perché me l'han detto, perché l'assessore non c'era, avevo un po' paura alla domanda. La logica che ha portato a fare una convenzione più lunga è quella dell'economia di procedimento nel senso che avendo noi già fatto un periodo sufficientemente ampio di sperimentazione di questa reciprocità e avendo riscontrato l'efficacia della delibera, concordemente i due comuni dicono è inutile che tutti gli anni ci ritroviamo a ribadire una cosa che è condivisa e sta funzionando e quindi allunghiamo il periodo di decorrenza. Questa è semplicemente la logica. No, se la domanda è non si va a pregiudicare le prerogative del Consiglio Comunale insediante, del prossimo Consiglio Comunale, la risposta è no, nel senso che è connaturato nella nostra potestà di fare atti che hanno durata, che scavalca i confini del nostro mandato. È una nostra prerogativa, voglio dire se accendiamo mutuo ventennale allora dovremo chiedere il permesso ai successivi quattro esercizi di legislatura. Bene. Capogruppo Mattarelli, prego. Nonostante i dubbi che io ho sempre nell'ambito di queste materie, su queste due rinnovi di convenzione votarò a favore per motivi di praticità tecnica per gli studenti che utilizzeranno queste convenzioni. Però voglio ricordare a loro signori che tutti questi servizi, che si chiamano servizi a domanda individuale, mensa, trasporto scolastico, eccetera, sono coperti dai costi, dai cittadini, fino al 30% massimo del costo. E perciò, per il Comune di Cento, se vado a memoria, nell'ambito del nostro bilancio, questi servizi hanno una voce di bilancio complessiva, tra trasporti, mensa, scuole ed altri servizi sociali, di circa 18 milioni. Ora, va bene, i costi vengono coperti dalla Fiscalità Generale, quindi la domanda individuale arriva a coprire il 30% massimo del costo effettivo. Rendiamoci conto che il 70% lo pagano tutti gli altri, tutti gli altri noi, con le loro tasse, con i fondi del Comune, con le varie cose. Il che non vuol dire non bisogna farlo, bisogna solo rendersi conto che quando tu vai a fare il pieno della tua macchina, non c'è nessuno che ti dà i soldi per fare il pieno, taghi me a te. Quando invece mandi il figlio a scuola, il biglietto costa, che ne so, 70 euro al mese, per te, tu ne paghi 25. Faccio un esempio numerico non attinente alla realtà. Questo equilibrio dei servizi sociali, che è moltiplicato per 8 mila comuni in Italia, porta le spese correnti dello Stato italiano, che sono sostanzialmente sanità, previdenza e denti locali, le voci principali, a circa 450 miliardi di euro annui. che vengono coperti dalle tasse nazionali, dalle imposte dirette, dalle imposte indirette, dei contributi sociali, per pari importo. Poi dopodiché dobbiamo pagare gli interessi sul debito, che è 2.200 miliardi, che con il governo Renzi è aumentato, con i governi Renzi, Letta e Monti, è aumentato di 163 miliardi. Nonostante non ci sia più il Presidente Berlusconi. Quegli interessi lì, che sono circa 80 miliardi all'anno, prima è aumentato e è arrivato a 2.100 miliardi, grazie alla politica fatta dai governi di centro-sinistra e di centro-destra, che si sono succeduti dal 78 al 92. Dal 78 al 92? Stiamo sul tema. Quest'idea Mattioli mi ha interrogato e io ho risposto. No, no, la siamo... No, no, non è una logica tutta mia, questi sono numeri. Di conseguenza, quello che voglio dire, per ricordarmi al tema, tutto bene, tutto bello, ok, però ricordiamoci che il contesto della nostra nozione di oggi è quello di un bilancio che è sempre più ristretto, tant'è vero che il governo per fare una manovra di adesso 17 o 27, di 27 miliardi, sta tirando la coperta da tutte le parti e quindi anche queste cose, prima o poi, noi dovremo renderci conto di cosa vuol dire coprire con i servizi a domande individuali solo il 25% dei costi. Grazie. Grazie a lei, capogruppo Mattarelli. Quindi, consigliere Mattioli, prego. No, io non mi dilungherò, grazie Presidente, innanzitutto, non mi dilungherò in elucubrazioni come il consigliere Mattarelli sul bilancio del governo, mi limito a queste due delibere che stiamo per approvare e che ancora una volta, come dire, dimostrano la sensibilità e l'attenzione di questa amministrazione al mondo della scuola. Quando dico mondo della scuola, intendo dire le edilizie scolastiche che non si ha memoria, secondo me, nella storia di alcun comune che abbia costruito in meno di metà legislatura un numero di scuole come ha fatto questa amministrazione. Intendo dire collaborazione con gli istituti scolastici nelle loro attività e qua mi dilungherei troppo per elencarle. E non ultimo, anzi abbastanza importante, ritengo il discorso della tensione nei confronti delle spese e dei servizi. Abbiamo approvato poco tempo fa la delibera dell'impiego del nuovo ISEE che va a supportare maggiormente le famiglie con difficoltà a pagare le rette scolastiche e con un ISEE individualizzato. Ed anche in questo caso si va in conto le esigenze delle famiglie perché, come diceva prima il sindaco, ritengo inqualificabile che fino alle amministrazioni precedenti alla nostra nessuno avesse provveduto a fare degli accordi con i comuni limitrofi per parificare le rette scolastiche, in modo che, come diceva, aveva fatto l'esempio di Casumaro, un bambino che abitava di là dalla strada, non a 2-3 km dalla scuola, ma di là dalla strada, abitava nel comune di Finale Emilia e pagava delle rette il doppio rispetto ai bambini che abitavano di qua dalla strada. Noi abbiamo sanato una situazione che secondo me era inqualificabile prima e che dimostra di andare ancora una volta nella direzione di aiutare le famiglie nelle spese scolastiche. Grazie. Grazie a lei, consigliere Mattioli. Quindi mettiamo in votazione il punto 7 all'ora del giorno, approvazione e convenzione tra il comune di Cento e il comune di Finale Emilia per il servizio trasporto scolastico a decorrere dal 2015-2016 al 31-8-2020, che è favorevole, favorevole e unanimità. Manca, è andato via il consigliere Covini? Sì, unanimità. Immediata esecutività della delibera, unanimità. punto 8, approvazione e convenzione del comune di Cento e il comune di Finale per i servizi scolastici, mensa dopo scuola, centri ricreativi estivi a decorrere dal 2015-2016 fino al 31-20-2020, che è favorevole, unanimità, unanimità anche per la immediata esecutività della delibera. Ultimo punto all'ora del giorno, interrogazioni e interpellanze. Non ho visto le mani, mi pare di aver visto velocemente. Consiglia Zapaterra, prego lei la parola. Sì, grazie Presidente. Io faccio molto veloce, la mia non è in realtà un'interpellanza vera e propria, la mia è una richiesta di chiarimenti. Allora, io conosco la quasi totalità delle persone qua davanti, so perché sono qua. Come ho già detto con loro, io, l'interpellanza, non posso darvi la risposta perché avevo vincoli di segretezza. Per quanto riguarda un'altra interpellanza che ho fatto, vorrei sapere che fine ha fatto la risposta. Io il 4 agosto di quest'anno ho fatto un'interpellanza relativa al decreto legge del 24 aprile 2013 in gazetta ufficiale 169 del 20 luglio 2013. È una legge che dal 30 ottobre di quest'anno, cioè tra 30 giorni, se non viene affrontata in qualche modo, noi corriamo il rischio di avere il 90% di unità sportive ferme a 100, perché impone la presenza di un defibrillatore e di una persona capace di utilizzarlo. Il 20 settembre, su un campo di basket, non tanto lontano da qua, Castel Busterling, un ragazzo di 21 anni mai ci muore ed è stato salvato per la presenza del defibrillatore. Questo mi fa pensare che difficilmente ci siano delle deleghe. L'interpellanza è passata i 30 giorni. Il 4 di settembre di questo mese ho mandato un'altra interpellanza chiedendo che fine ha fatto la prima e perché non mi è ancora stata la risposta. Io vorrei sapere perché non mi è stata data la risposta e qual è la risposta. Grazie. Capogruppo Magagna, prego. Grazie Presidente. Io ho due interrogazioni. Gli ho protocollate tutte e due lunedì per dare il tempo, nell'ipotesi ci fosse bisogno di trovare dei dati per far dare una risposta oggi. Infatti avevo specificato che l'avrei fatta verbalmente per far sì che queste risposte potessero essere date in consiglio, visto che tutti i due temi sono temi già affrontati e quindi non del tutto chiariti. Quindi per non lasciare delle incertezze è giusto che ci siano risposte positive o negative e risposte chiare per non lasciare dei dubbi perché la cosa più brutta che secondo me ci può essere è lasciare delle zone d'ombra senza chiarezza, che quindi fanno pensare a tante cose e magari anche non ha ragione. Quindi se si danno chiarezze, risposte chiare, sicuramente il cittadino sia nel positivo che nel negativo almeno sa cosa gli aspetta. Allora, la prima è sull'interrogazione sul Palazzo Piombini. Considerato che su come l'amministrazione si è arrivata a portare gli uffici comunali a Palazzo Piombini circolano svariate voci di piazza, mai confermate e mai smentite dall'amministrazione. Verificato che il comitato c'è entesi e onesti sul suggerimento di un cittadino ha posto all'amministrazione otto domande riguardanti Palazzo Piombini che non hanno ricevuto risposta. Considerato che come consigliere comunale mi sono già interessato delle problematiche in passato, infatti su alcuni di questi quesiti io le risposte le so, ma le so io come singolo, quindi secondo me il cittadino è interessato a saperlo anche il cittadino. Io come singolo non ho la possibilità di andare a prendere tutti i cittadini, quindi detto in questo contesto, chi vuole ascoltare... Parla tutti i cittadini. No, chi vuole sapere la risposta la sente. Tu le sape che te lo avete qui. No, no, le so perché ho fatto una richiesta ad atti, non perché me le ha dette qui. E solo su due o tre punti di quelle che porrò dopo. Come consigliere comunale mi sono già interessato della problematica in passato, ritengo di interesse per tutta la cittadinanza far luce sulla questione, dando una risposta definitiva a queste domande, anche per evitare male informazioni e dare chiarezza e trasparenza sulla vicenda. Visto che il Comitato non ha avuto niente da icepire alla mia proposta di portare in Consiglio Comunale le domande sotto forma di interrogazione, per me su tutto ciò si interroga l'amministrazione per sapere quanto ha speso complessivamente l'aggiunta Lodi per trasformare gli appartamenti di Palazzo Panini in ufficio, quanto si spende annualmente di affitto per detti locali e per il riscaldamento e la rifrigerazione degli stessi, quanto è stato previsto che si spenderà per il loro ripristino a uso appartamenti come previsto dal contratto stipulato con la proprietà dell'immobile, quali altre alternative furono prese in considerazione e scartate al momento che fecero quella scelta. Corrisponde al vero che l'attuale Presidente del Consiglio Comunale Fortini due giorni dopo il sisma del maggio 2012 furono proposti locali alternativi già predisposti per l'uso ufficio a Pianterena in corso a Guercino, ma i proponenti non sono successivamente mai stati contattati per verificare la convenienza e opportunità della proposta. Nell'ipotesi sia vero quale fu il motivo di tale decisione. Corrisponde al vero che nella delibera della giunta Lodi dove si decide di prendere in affitto Palazzo Piombini si cita una ricerca di mercato che in realtà non sarebbe mai stata effettuata nell'ipotesi dell'esistenza invece di tale ricerca quali sono gli esiti della ricerca. È vero che la mediazione fra la giunta Lodi e la proprietà del Palazzo Piombini fu svolta da un'agenzia immobiliare di proprietà della moglie del loro vice sindaco e quanto ha fatturato detta agenzia per la mediazione in parola. La seconda interrogazione che invece interessa la maggioranza dei quali presenti dei cittadini qui in sala è l'interrogazione sull'edificio Renazzo sito in via Maestra Grande. Visto che il consigliere Zapatero ha presentato un'interrogazione in data 4 agosto 2015 su un edificio in costruzione ben dal 2004 ubicato in via Maestra Grande fra il civico 7 e il civico 1-1-3-1 dove chiedeva i tempi entro in cui il cantiere doveva essere concluso la destinazione d'uso finale del complesso e se fosse vera la sua destinazione ad edilizia popolare come mai tal edificio fosse fermo da così tanti anni e chi dovesse sanare la situazione di degrado. Considerato che l'amministrazione non ha mai attivato nessun link nel sito comunale per poter avere conoscenza delle risposte alle interpellanze poste dai consiglieri comunali e all'amministrazione con conseguente ignoranza da parte dei cittadini sui vari temi poste all'attenzione della giunta Lodi. Nello specifico non sono stati nemmeno contattati i cittadini firmatari insieme al consigliere Zapaterra dell'interrogazione per dargli delle risposte alle domande poste. Visto che i cittadini interessati dalla costruzione sopracitata non hanno avuto risposte e sono ancora all'oscuro sui quesiti posti dalla precedente interrogazione quindi ancora più preoccupati della situazione non avendo chiarezza hanno sollecitato un ulteriore intervento sperando che una seconda interrogazione questa volta verbale potesse dare risposte chiarificatrici. Preso atto che il perdurare di incertezze e soprattutto la non chiarezza sul tema alimenta una moltitudine di voci di piazza che fanno allarmare ulteriormente i residenti della zona premesso tutto ciò si interroga l'amministrazione per sapere quando la situazione di degrado in cui verso lo stabile saranno sanate chi è il proprietario dell'immobile oggi e chi lo sarà al momento del completamento dei lavori se il costruito sia rispettoso di tutte le distanze dagli altri edifici esistenti se corrisponde al vero che il recupero dello stabile sarà finanziato da Acer comune e da un fondo terremoto o contributo per il terremoto e se questo non fosse vero chi pagherà il completamento dell'opera ma soprattutto la cosa più importante è la destinazione d'uso dell'immobile quando sarà stato completato quale sarà grazie finito non c'è più domande quindi sindaco mi la ritroffi? sì no volevo prima un attimino perché non ho capito bene dopo te la do se mi dice chi sono che sono venuti da me io le rispondo perché non so mica com'è a me lo chiede se è vero lei l'avrà sentito da qualcuno questo qualcuno chi è mi dice chi è io lo rispondo chi? ma io imparo adesso se vuoi pigliarmi in giro è un conto no il comitato chi sono quando io parlo con 200 persone al giorno avrò parlato sicuramente lei mi dice chi le ha detto queste cose io rispondo che non c'è niente allora comincio a rispondere così uscite da una dialettica che non qualifica provo un certo imbarazzo a rispondere alla sua interrogazione la terò per ultima comincio dal consigliere Zapateria anche in ordine cronologico intanto le devo una giustificazione sulla mancata risposta e sulla sua interrogazione in merito al decreto Balduzzi la motivazione è che in realtà è materia in profonda evoluzione attualmente in conferenza credo Stato-Regioni sta circolando la terza bosa di variante rispetto al decreto Balduzzi rispetto alle metodologie operative noi stiamo seguendo l'evoluzione diciamo dell'obbligo gliela riassumo brevemente originariamente il decreto Balduzzi dava l'obbligo servono dava l'obbligo della di installare e manutentare e tenere in efficienza e occuparsi dei corsi dei relativi refresh per la defibrillazione alle società sportive una seconda versione ha spostato quest'obbligo ha traslato quest'obbligo dicendo a una delle società sportive che gestisce l'impianto anche in associazione con le altre poi lo si è portato sul gestore dell'impianto sempre come ipotesi diciamo di maggior efficienza efficacia della norma attualmente l'ipotesi che sembra possa diventare quella definitiva porta questo obbligo sull'impianto e sarebbe il gestore dell'impianto a dover vigilare e adempiere all'obbligo di dotare l'impianto dell'apparecchio del defibrillatore insomma no il gestore dell'impianto quindi non è il comune il comune è il proprietario degli impianti quasi tutti gli impianti hanno una convenzione per la gestione quindi sarebbe il titolare della convenzione di gestione il comune come ha operato in questa fase ha operato intanto censendo la presenza di defibrillatori sul nostro territorio questa amministrazione credo almeno questo merito l'avrà indiscutibilmente io sono convinto qualcuno in più di essere stata la prima amministrazione che ha sviluppato una politica vera di promozione della presenza di defibrillatori sul nostro territorio tutte le frazioni hanno un defibrillatore di pubblico diretto accesso sono stati finanziati i corsi di formazione sono centinaia le persone che sono state formate per la defibrillazione precoce abbiamo predisposto un piano di ampliamento della presenza del defibrillatore che ha già dato risultati significativi due pattuglie della municipale sono dotate di apparecchio mobile tutti gli agenti della nostra municipale hanno fatto il corso e annualmente si sottopongono al necessario refresh ad oggi il palazzetto dello sport e la piscina sono già stati dotati di defibrillatore prevediamo un primo intervento che dovrebbe portare altri due impianti di massimo utilizzo dotati nei tempi diciamo di cogenza del balduzzi cioè appena ci sarà la versione definitiva e progressivamente nella parte di 2015 che manca contiamo di arrivare a coprire i restanti impianti è evidente che cambia molto quello che è la formalizzazione diciamo dell'obbligo perché essendo noi un ente pubblico non possiamo sostituirci ad obblighi di privati quindi qualora la stesura definitiva fosse che è il gestore a dover fisicamente sostenere i 2000 euro di costo 1500 più qualcosa meno di 1000 per la formazione per l'acquisto la posa e la manutenzione dell'apparecchio se dicevo la legge dicesse che quest'obbligo grava sul gestore noi non potremmo sostenere direttamente quel costo potremmo al limite nella convenzione vedere di aiutare il gestore per sostenere il costo relativo se vuole è una perversione ma la legge italiana è fatta così sarebbe danno erariale se il comune si sostituisse a un altro obbligato nell'adempimento dell'obbligo perché noi stiamo gestendo i soldi di tutti e non i soldi di un privato comunque il monitoraggio è costante il dialogo con la regione che sta in conferenza stato regioni è quotidiano l'ultimo aggiornamento credo sia di qualche giorno fa forse lunedì per vie brevi appena ci sarà la stesura definitiva sì 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 mail o altri strumenti ancora più rapidi sull'interrogazione che accomuna e che tiene qui questa gente ora non tarda ancora per la verità che il tema di Renazzo qualche cosa dico con chiarezza il ragionamento è questo l'amministrazione comunale ha aderito così come tutte le altre amministrazioni del cratere del terremoto a un bando che metteva a disposizione del Comune di Cento un milione duecentomila euro per l'acquisto di possibili immobili da destinare a abitazioni temporanee per le persone colpite dal terremoto con inagibilità dell'edificio di proprietà e questo patrimonio immobiliare che sarebbe stato che sarà finanziato da una norma speciale della ricostruzione una volta finita la fase dell'emergenza del terremoto andrà a integrare il patrimonio ERP cioè di edilizia residenziale popolare una volta la sigla era questa quindi edilizia sociale dei singoli comuni abbiamo partecipato al bando il che vuol dire che c'è stata un'esplorazione di mercato gestita direttamente dalla regione si cercavano edifici con determinate caratteristiche sia dal punto di vista della classificazione antisismica che dal punto di vista della classificazione energetica il bando non è andato deserto nel nostro comune sono stati molti a manifestare l'interesse la regione ha affidato a Acer cioè l'azienda casa Emilia Romagna nelle sue emanazioni provinciali il compito di scorrere la graduatoria per andare a individuare il miglior offerente cioè il miglior rapporto qualità prezzo per gli edifici da acquisire tutto ciò non vi riguarda ancora arrivo a voi tra un secondo però la racconto la racconto completa il risultato è stato che molti però hanno declinato la finalizzazione del contratto cioè non hanno condiviso perché la regione dava un prezzo d'acquisto a metro quadro fissato che nelle logiche del mercato immobiliare nostro evidentemente non funziona particolarmente quindi la graduatoria è stata scorsa per intero di quelli che avevano partecipato al bando ed è stato possibile ad aziende a casa Emilia Romagna individuare qui vado a memoria ma credo solo due appartamenti che non sono ancora fisicamente stati acquistati o sono stati acquistati da pochissimo ma che entreranno entro il 2015 in questo gioco questo satura una percentuale odesta insomma credo un terzo circa sì un quarto circa del del plafond complessivo assegnato al nostro comune quindi la regione ha autorizzato il comune a un'ulteriore esplorazione per individuare se esistevano edifici in classe sismica ed energetica tali da poter essere interessati cosa che è stata fatta con esiti non positivi in questa seconda fase di esplorazione si è ragionato cercando di capire se esisteva la possibilità di utilizzare gli strumenti del terremoto per completare alcune delle incompiute più significative esistenti sul nostro territorio in particolare se ne sono verificate alcune cioè diciamo gli scheletri di palazzi poi rimasti incompiuti per scelte o motivazioni cogenti e su questo così spiego anche il giallo della riservatezza ci siamo fermati perché ovvio che un consigliere comunale può conoscere determinate informazioni che il comune ha ma queste sono stanno nel rapporto comune privato e non sono da raccontare in piazza insomma la dico banale tra gli edifici di cui abbiamo verificato se esisteva la possibilità di utilizzare di cogliere i due piccioni con una fava cioè di togliere dal degrato potenziale uno scheletro e dotarci di alloggi ecologici ecco sì insomma no vabbè comunque diciamo con una classe di di consumo e classe di consumo energetico e una classe antisismica adeguata è evidente che in quel caso trattandosi ed edificio ancora da completare era abbastanza facile raggiungere entrambi i requisiti su questo così come su alcune altre situazioni su alcune altre non si è andato avanti oltre una prima esplorazione sull'ipotesi di Renazzo si è andato avanti oltre una prima esplorazione oggi posso dire che non c'è nessuna possibile finalizzazione di questa ipotesi e quindi il percorso di reperimento degli immobili per il residuo di 900 mila euro di disponibilità di Flafon ricomincia da capo e nelle prossime settimane uscirà un ulteriore bando esplorativo perché per una serie di motivazioni varie le più varie che rientrano nella casistica di prima quindi non vi dirò perché stanno nella valutazione libera del privato l'ipotesi non ha trovato l'incontro fra domanda e offerta diciamola così quindi non c'è nulla di concreto e nessuna prospettiva in merito al fatto che l'edificio sito in Renazzo in via maestra grande ma non ricordo il civico comunque beh vabbè c'è nel senso che se lo si ricava da quelli confinanti venga finito con i soldi alla ricostruzione su tutta l'altra parte di domanda cioè quando questo edificio verrà finito e con quali risorse parto dalla seconda sicuramente con risorse private non certo con risorse pubbliche quando quando il proprietario dell'area avrà le risorse e deciderà di impiegarle lì per finire l'immobile questo è un 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 una ferita abbastanza significativa che abbiamo nella normativa edilizia perché il permesso di costruire dura dieci anni da quando viene rilasciato può stavo dicendo quando la gente non c'ha pazienza però non esiste una sanzione per chi non completa l'immobile al termine del permesso di costruire se non la decadenza del permesso di costruire stesso e il fatto di dover sostenere ulteriori costi per un nuovo permesso di costruire per proseguire i lavori sostanzialmente quindi il problema di fondo è che il potere diciamo dell'ente pubblico è esclusivamente quello di intervenire quando si travalica il confine del degrado urbano allora il confine del degrado urbano è un confine di difficilissima contestazione e di altrettanto difficile sanzione quindi il problema renazzese è nulla in confronto e non voglio svilirlo in alcun modo rispetto a altri edifici che fanno brutta mostra di sé anche da più tempo rispetto a questo penso alberone per fare l'esempio più eclatante ma il sì ce ne sono ce ne sono tanti ma il ruolo dell'ente pubblico è praticamente inesistente su questo versante quello che aveva tentato di fare l'amministrazione era di capire in una logica di cogliere delle opportunità se uno strumento pensato per il terremoto poteva essere utilizzato anche per sbloccare un cantiere che difficilmente poi io qui non mi addentro perché stiamo parlando di interessi privati di persone specifiche però faccio un pronostico da uomo della strada in questo caso non da sindaco difficilmente credo si potrà sbloccare autonomamente in tempi particolarmente brevi se non altro per una considerazione generale astratta che il mercato oggi non chiede più edifici di quella tipologia costruttiva perché un po' si è modificato naturalmente e un po' perché il terremoto ha accelerato il cambio diciamo della ricerca da parte dei potenziali acquirenti quindi non so se questa sia una buona o una cattiva notizia per gli esidenti della zona noi ritenevamo che fosse delle due un'opportunità quella che si è cercato di esplorare in ogni caso che fosse un'opportunità o meno non è attualmente oggi un'opzione sul tavolo è una proprietà privata lo è sempre stata lo rimarrà nel senso che non c'è nessun atto programmatorio di questa amministrazione che immagini ipotizi un'acquisizione di quell'area c'era stato un pensiero questo pensiero è stato esplorato nella logica di dire cerchiamo di evitare che in una zona residenziale a ridosso del cuore della frazione di Terenazzo possa ancora per più tempo del necessario rimanere uno scheletro di un potenziale edificio questo era il ragionamento che abbiamo accarezzato e che abbiamo poi accantonato se vado avanti con quella invece che mi crea un certo imbarazzo e mi crea un certo imbarazzo la dico così perché uno non può dire come i tattocentesi onesti e il primo fatto che compiono è di firmare una lettera anonima io voglio dire onestà e lettera anonima sono una cacofonia che dovrebbe fare inorridire chiunque dia un qualche valore al dibattito politico alla democrazia anche al rispetto tra le persone io credo che in politica si possa fare qualunque domanda se si rispettano alcuni requisiti intanto la buona educazione che è sempre una roba importante oltre alla buona educazione io aggiungerei forse prima ancora della buona educazione il metterci la faccia almeno sapere chi fa una domanda perché a fare delle domande dal sapore della maldicenza piene di ammicamenti e allusioni alcune delle quali molto oltre il confine della correlabilità trincerandosi dietro uno pseudonimo che è ridicolo perché questo non è una non siamo a New York e quindi sappiamo benissimo chi si cela dietro questo fantomatico pseudonimo e mi fermo qui e quindi l'imbarazzo mi deriva dal fatto che il capogruppo Magagni invece è persona che in genere pone domande sia con buona educazione sia mettendoci la faccia quindi provo imbarazzo quando domande irricevibili domande irricevibili perché a lettere anonime questa amministrazione non risponde mi vengono presentate dal capogruppo Magagni allora io vado in difficoltà perché mi domando se il capogruppo Magagni ha fatto la segretaria di direzione ci ha fatto le fotocopie ci ha messo un timbro e le ha protocollate o le ha fatte proprie se ha fatto proprie queste domande e quindi le faccio una domanda precisa se queste otto domande sono sue procederò a rispondere se lei le riporta a nome d'altri mi fermo qui allora un sì o un no questo comitato ha riassunto voci di piazza che io sentivo già da tempo sono sue domande allora me le sono fatte mie sono curioso cioè curioso vorrei che le voci di piazza che sono sempre sentite allora adesso diciamo venissero messi a tacere adesso diciamo anche qualcosa sulle voci di piazza perché è il momento in cui ci si sciacqua un pochino la bocca che alcune persone improponibili al punto che non mettono il loro nome sui fogli che scrivono siano gli stessi che alimentano le voci di piazza di cui poi chiedono conto è un paradosso che dovrebbe essere considerato per quello che è cioè un'onta per la nostra intera comunità è gravissimo così la dico per come la penso che qualcuno che gode invece di una credibilità personale che si è guadagnato sul campo col lavoro con l'impegno e con la serietà si presti a portare in questo consiglio comunale quesiti di persone che fuori da questo consiglio comunale fanno quello che vogliono perché purtroppo godono della democrazia e della libertà che altri hanno giustamente portato e di cui loro fanno quotidianamente scempio quotidianamente scempio perché la politica della maldicenza del chiacchiericcio e scusi presidente ma usiamo per le persone un linguaggio che possono capire dello sputtanamento sistematico sono cose che non appartengono alla città di Cento è molto grave che vogliamo far diventare questa spazzatura patrimonio della nostra bella comunità soprattutto perché queste sono domande a cui lei stesso un secondo fa e c'è la registrazione ha detto di conoscere le risposte ah beh me le ha riposte lo stesso allora perché pone una domanda se sa già la risposta perché alimenta le voci di piazza basate sulla maldicenza e sulla disinformazione e adesso le dico siccome il microfono io me lo tengo che il suo ruolo dovere di consigliere comunale è promuovere la massima informazione possibile nei confronti del cittadino allora se lei sa una domanda se le fanno una domanda e lei sa la risposta cortesemente capoglucro Magagna non mi porta la domanda dicendo che fuori la gente non sa la risposta sto parlando io almeno un po' di educazione la rispettiamo dopo niente perché siamo interrogazioni e interpellanze perché anche le regole le rispettiamo dopo potrà dire se è soddisfatto e penso non sarà molto soddisfatto io quello che voglio dire è che è molto grave ci sono momenti in cui quando una persona si abbassa a rispondere a una domanda è già scesa a un livello che non sarebbe giusto una persona per bene dovesse toccare dopo di che scorro le sue splendide domande quanto ha speso complessivamente la giunta l'odi per trasformare gli appartamenti di palazzo panini che è quello dove ci troviamo niente quanto si spende mi dispiace c'è scritto panini io rispondo alla sua domanda quando si spende gli onesti sono anche un po' sgrammaticati quanto si spende annualmente di affitto per detti locali lei va su interdelibere perché questo comune è trasparente come una casa di vetro scrive Piombini e trova la delibera che stabilisce non solo la cifra dell'affitto ma riporta anche la perizia dell'agenzia del territorio che è l'ente terzo preposto alla validazione degli affitti pubblici che non è obbligatorio interpellare e che questa amministrazione interpella sistematicamente perché quando spendiamo i soldi dei cittadini vogliamo evitare che qualche persona che non meriterebbe invece nessun rispetto possa andare fuori a seminare maldicenza andando ad alludere al fatto che spendiamo più di quanto strettamente necessario allora siccome ce l'ha perché so che ha fatto richiesta di accesso agli atti lei sa anche che la perizia della gestione del territorio ha giudicato congrue nella parte mediana quindi vuol dire medio-bassa della forbice di congruità il prezzo d'affitto di questo immobile cosa vuol dire fuori dal tecnicismo che stiamo pagando un affitto che è al di sotto del valore di mercato casa mia si chiama buona amministrazione quando uno paga una cosa meno di quanto dice il valore medio di mercato e quando questo non lo dico io e non lo dice lei ma lo dice un ente terzo che fa questo di mestiere chi continua a alimentare il chiacchiericcio di piazza si deve vergognare e la dico forte e se decide di privarci della sua interessante compagnia ci sono tantissime altre città che non li meritano ma che credo possano subirli per un po' di tempo come li stiamo subendo noi quanto è stato previsto che si spenderà per il loro ripristino ad uso appartamenti con lo stesso interdelibere si trova il contratto d'affitto dove è quantificata in maniera analitica sia la cifra che l'eventuale meccanismo di rivalutazione della medesima quindi anche lì c'è una norma molto chiara che dice che ed è la norma delle pubbliche amministrazioni a cui essendo lei un pubblico ufficiale potrebbe anche fare riferimento che è che economicità del procedimento si chiama che non si chieda un ufficio un'informazione che si può reperire direttamente in accessibilità pubblica non ci mette più di due click per avere la risposta anche a questa domanda siccome io so che lei informaticamente è normodotato quindi non è Bill Gates però sa andare su internet non ci mette più di due click quindi ancora non ho ancora trovato una domanda che meritasse di essere posta fino qui peraltro tutte domande a cui lei ha avuto risposta con una richiesta di accesso agli altri quali altre alternative furono prese in considerazione scartate al momento che fecero quella scelta nella premessa della delibera è ricostruito il percorso deliberativo i ricompreso i meccanismi di valutazione di mercato che sono strati seguiti da questa amministrazione li riassumo brevemente abbiamo fatto due cose non da persone geniali da persone qualsiasi ci serve un immobile con determinate caratteristiche siamo il comune non il tabaccaio sotto l'angolo quindi guardiamo sul sit sistema informativo territoriale del comune quanti edifici hanno le caratteristiche che stiamo cercando incrociamo le informazioni che ci derivano con l'ufficio tributi e vediamo quali di questi sono sfitti e cominciamo a capire di cosa stiamo parlando poi siccome Cento non è enorme e l'obiettivo dell'amministrazione era riportare il municipio in centro e basta che vada a parlare con qualunque persona là fuori per capire quanto è stato importante per Cento riportare il municipio dentro i nostri confini naturali e non realizzare uno scatolone precostruito con un pacchetto murario da 7 cm come i municipi temporanei giustamente pagati alla regione da mettere fuori via ferrarese come succede in tantissimi altri comuni dove attorno al municipio c'è campagna questa amministrazione ha detto se vogliamo tornare alla normalità bisognerà che riportiamo il municipio in centro adesso le dico una cosa banale guardo il capogruppo Mattarelli perché eravamo assieme a festeggiare un importante traguardo di anzianità di servizio per un'importante attività del centro storico come una tabaccheria qui vicino la signora e il suo marito della tabaccheria possono testimoniare che col municipio fuori dal centro storico il loro fatturato era precipitato precipitato e siccome Mattarelli li conosce glielo chiederà e lo prego di andare a dire a capogruppo Magagna se questo è vero o non è vero e quando il municipio è tornato in centro quell'attività che avrebbe chiuso e ne cito una ha potuto festeggiare un traguardo importante di anzianità di apertura ma ne ho citata una perché mi è venuta in mente ma provate a pensare cosa sarebbe cento se il municipio fosse dopo la Erlicon là fuori in un piazzale bene quindi abbiamo verificato andandoli a vedere quelle che erano le soluzioni ne abbiamo valutate alcune tra cui anche qualcuna al pian terreno che non aveva se è quella a cui fa riferimento il rapporto aeroilluminante corretto io non metto cento persone a lavorare in un posto che non ha finestre se si può se posso evitarlo e ne abbiamo verificate sulla delibera è ripercorso il processo logico c'è addirittura una relazione agli atti del comune che lo rende ancora più analitico corrisponde al vero che all'attuale presidente del consiglio credo abbia chiarito all'attuale presidente del consiglio io aggiungo una notazione che se gliel'han detto due giorni dopo il terremoto io spero bene che il presidente del consiglio due giorni dopo il terremoto si stesse occupando del sollievo alla popolazione e non fosse partito con l'esplorazione del mercato anche perché capogruppo Magagna lei sa e quindi la prego quando vede gli anonimi diffamatori dirglielo che questa amministrazione prima di cercare un edificio in locazione come municipio temporaneo ha aspettato di avere una valutazione precisa sui tempi e i costi di ripristino della struttura preesistente cioè non si buttano via i soldi per prendere in affitto qualcosa se non sai quanto tempo ci metterai per tornare a casa tua e questo lo farebbe lei a casa sua anzi so che l'ha fatto a casa sua ha terremotato e questo farebbe qualunque padre di famiglia quando gestisci i suoi si figuri quando sta gestendo i soldi di tutti i cittadini corrisponde al vero che nella delibera ah ho detto un'altra cosa abbiamo anche interpellato alcune agenzie immobiliari lo dico così a un passant che mi sembra sia l'altro posto dove in genere si trovano gli immobili corrisponde al vero che nella ricerca nella delibera della giunta Lodi dove si decide di prendere in affitto Palazzo Piumbini si cita una ricerca di mercato sì glielo ho appena detto corrisponde al vero che la mediazione fra la giunta Lodi e proprietà di Palazzo Piumbini fu svolta un'agenzia immobiliare beh qui siamo alla fantascienza nel senso che anche mia figlia che ha sei anni sa che il comune non corrisponde mediazione per gli immobili ma lo fa per legge di non corrisponderla nessun comune in Italia 8.400 sblisga avrà mai pagato dal 1861 ad oggi una mediazione per una compravendita o per un affitto immobiliare perché non lo può fare quindi sicuramente se una mediazione c'è stata e dopo le risponderò non certo tra questo comune perché questo comune come qualunque comune rispettando la legge non paga mediazioni immobiliari le ho anche risposto chiarendole che un'agenzia immobiliare di proprietà dell'allora moglie dell'allora vice sindaco aveva in contratto di esclusiva l'immobile da prima del terremoto dalla proprietà e ha avuto con la proprietà e non col comune un ruolo che immagino possa essere tradotto in una prestazione professionale di cui però non ho nessun motivo tanto per informare gli onesti ma neanche per informare lei perché non la so però voglio dire il bilancio di questa agenzia immobiliare sarà la camera di commercio spenda gli 8 euro e le vada a prendere copia ma non credo che troverà una voce straordinaria perché io non sono un esperto di intermediazioni immobiliari ma su un contratto d'affitto si prende si prende una mensilità per una sola delle parti quindi stiamo parlando del 50% di una mensilità forse parliamo di 2000 euro però lei ha tutti i dati faccia il conto voglio dire il suo candidato sindaco faceva la gente immobiliare gli chieda quant'è la provvigione e faccia faccia un calcolo tanto ha tutti gli elementi per sapere quanto ha preso se ha preso qualcosa quanto ha fatturato detta agenzia io non so agenzia delle entrate quindi non mi occupo delle fatture delle aziende private che non hanno un rapporto commerciale e neanche di consulenza con l'ente locale io non so se lei è molto soddisfatto della mia risposta io non sono per nulla soddisfatto di avergli la data perché è proprio brutto quando vengo costretto a fare una cosa che non avrei mai fatto e che ho fatto esclusivamente per il rispetto che porto per i cittadini che hanno messo la croce sul nome Lorenzo Magagni e l'hanno portato in consiglio comunale perché ai centesi onesti non avrei sicuramente dedicato i dieci minuti della mia vita che ho dedicato a lei due minuti si penso di starci dentro allora un aspetto che questo è già uscito anche in altre interrogazioni se lei da una risposta singola a me tipo quando chiedo una risposta scritta la so io poi io posso con i miei canali provare di divulgarla posso provare di divulgarla però è l'amministrazione che ha gli strumenti da divulgarla a tutti i cittadini in questo caso in questo caso quello che in alcune risposte le ha date io sono sono soddisfatto perché l'ha dato in questo però lei mi dice che devo essere educato io poi mi interrompe lei in questo caso alcune risposte le ha date quindi secondo me ha fatto un servizio ai cittadini perché chi ha guardato lo streaming vabbè che sono pochi ma chi lo andrà a vedere magari poi e sono già di più potrà sapere su alcune questioni alcune risposte poi lei si fossilizza sulla questione del comitato centesi onesti lei l'avrà con queste persone qua ma chi le ha detto ma chi le ha detto ma chi le ha detto che altri cittadini sono curiosi vogliono sapere risposte su questi sì sì c'è gente c'è gente che le vuole sapere c'è gente più di una che le vuole sapere invece di fare tutta questa dal mio punto di vista tutta questa polemica che ha fatto lei lei dava poteva dire tranquillamente non le rispondo oppure dar risposte e basta che secondo me in parte gli ha dati secondo me ha fatto una cosa utile per i cittadini perché ha dato pubblicamente alcune risposte perché è questo il luogo dove dare delle conferme o delle negazioni su alcune domande perché questo è il luogo il consiglio comunale preposto per dare queste risposte se io ho i miei canali ma è questo il canale principale deve essere lei mettendoli anche il fatto dei semplici click sì io con qualche click qualcosa riesco anche a trovarlo ma non è mica così per tanti cittadini c'è tanta gente che si è nostra sa accendere il computer cioè bisogna facilitare bisogna facilitare l'accesso e la possibilità di conoscenza dei cittadini per esempio adesso lei prima nell'altra interrogazione ha dato delle risposte precise a questi cittadini penso che non c'era il comitato degli onesti credo qui ci sono i persone con la loro faccia che vengono a chiedere risposte per favore sono il presidente posso farlo adesso prego continui almeno qui ci sono i cittadini che vengono hanno la loro faccia gli è stata data una risposta credo dal mio punto di vista abbastanza precise e credo anche da loro poi faranno loro le loro valutazioni e su quest'altra secondo me erano domande che interessavano a tanti cittadini e in parte quelli che è riuscito a rispondere qui che ha dato voluto dare risposta ha soddisfatto sicuramente il quesito per i cittadini interessati interessati se fossero venuti qui sarebbe stato ancora più bello almeno li conoscevamo e vedevamo ecco il mio meraviglio il sindaco è stato troppo buono troppo buono e la sacro e la faccenda cinque anni fa è capitata una stessa cosa di ciò che la voce di popolo che mi ha chiesto ma come dice la voce che lei ma non lo so io però sento su una questione normale mi è stato detto ma dice la gente che dice che lei ha il problema voce di popolo le assicuro che non è così anzi io starei attento io invece non ci credo sento un'altra voce di popolo stanno dicendo che sua moglie le fa le corna voce di popolo e non c'entrò mica ecco allora abbiamo questa è la voce di popolo la voce dei comitati che non hanno che non hanno che non hanno la faccia gente che è abituata a sparlare no non è questo è pettegolesso questo è pettegolesso il mio meraviglio di lei è stato troppo buono il sindaco lei è un consigliere comunale e rappresenta la città non rappresenta quattro persone o cinque dieci che non esistono no esistono qualcuno esiste e si sa anche chi è bene allora ma se non lo sapete voi avete lì avete il comitato ma dateci l'elenco almeno del comitato e cerchiamo di capire di ciò e candideremo le prossime elezioni che per me che sono onesti li facciamo diventare saranno i futuri ai miei trappori della città beh altrimenti non si riesce a votare grazie se mi permette vorrei fare una domanda al consigliere Magagna se posso no non si può perché abbiamo non è argolamento altrimenti do l'impressione ancora più brutta di quella se lei l'accetta la faccio lei allora no lo facciamo lo facciamo io ringrazio soprattutto il pubblico numeroso questa sera fa piacere vedere dei cittadini che vengono ad ascoltare e vengono beh però è giusto sentire grazie grazie signori consiglieri signori assessori signor sindaco il consiglio è terminato grazie a tutti 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 grazie a tutti